Con la giornata di sfiori la lingua, bisogna ascoltarsi che l'antra è estrellata. Dentro i tuoi occhi spacchi di vetro, se ancora li guardo non torno più dietro. Oh Marlena, 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 Marlena. Oh Marlena, Marlena, Marlena. Buonasera, benvenuti a Florence International Radio in diretta come tutti i giovedì sera. Almeno per il momento, perché qui la situazione è molto grave. Vi ricordo a tutti, se volete aiutarci, in particolar modo usate l'Iban che c'è sotto tutte le trasmissioni, perché quello non dico che arrivano immediatamente, ma comunque in un paio di giorni ci sono. Mentre le superchat, via dicendo, e tutto quello che arriva da YouTube arriva fra un mese. Visto che qui l'acqua alla gola ce l'abbiamo ora, prima fate meglio e grazie a tutti. Dateci una mano perché, se no, qua stanno senza orrente fra una settimana, ma forse anche meno. Speriamo che no, via. Stasera parliamo di Mirella Gregory, la ragazza scomparsa. In diretta abbiamo Deborah Ponzio, Igor Patuno e Tommaso Nelli. Buonasera a tutti. Buonasera. 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 A voi la parola. Grazie, Daniele. Il nostro Daniele Bronzi, il nostro padrone di casa su Florence International Radio, che è una radio sia sul web che è un canale YouTube. Questa è la notte del mistero, che come tutti i giovedì sera parla di casi irrisorti, sostanzialmente, come quello di Mirella Gregory. Questa sera parliamo di lei, la ragazza romana di 15 anni, scomparsa a Roma, nella zona di Porta Pia, il 7 maggio 1983. Abbiamo con noi Igor Patuno, giornalista e scrittore, e Tommaso Nelli, giornalista e scrittore, che si è occupato, molti lo conosceranno soprattutto per il caso di Emanuela Orlandi, ma nella sua tesi di laurea si è occupato anche di Mirella Gregory e ha scritto anche una serie di articoli, ha fatto una sua indagine tra il 2015 e il 2019. Devo dire, io avevo visto anche sul canale di Tommaso i suoi contributi sul caso Mirella e sono molto contenta di poter parlare con lui di questo caso, perché secondo me ha fatto degli approfondimenti e come sempre usa una metodologia molto illuminante e interessante. E la cosa, voglio dire, interessante, un pochettino a doppio taglio sulla vicenda di Mirella Gregory, è che inizialmente questo caso è diventato famoso perché abbinato al caso di Emanuela Orlandi, della scomparsa di Emanuela Orlandi, uno dei grandi misteri italiani. E questa è stata una cosa che ha portato a far parlare del caso di Mirella Gregory. Peccato che poi questa si sia rivelata, come dicevo, un'arma a doppio taglio, perché sul caso di Mirella in particolare le indagini sono state pochissime, perché a un certo punto, dopo un depistaggio vero e proprio che ci fu, una serie di lettere del cosiddetto fronte del turquescio, che poi è emerso, era un depistaggio, che abbinavano i due casi, Gregori e Orlandi, allora si è proseguito, si è fatta la scelta di proseguire sull'indagine, sul mistero di Emanuela Orlandi pensando che la soluzione di questa avrebbe a catena portato la soluzione anche della scomparsa di Mirella Gregory. Quando invece, ci spiegherà Tom Masonelli, sono due casi ben distinti. Il caso di Mirella Gregory merita una sua indagine, un suo approfondimento. Può essere tardi, perché sono passati tanti anni, dal 1983, sono passati 40 anni, ben 40 anni. Ma si può anche dire meglio tardi che mai, perché magari guardando questo caso singolarmente, le piste che sono state trascurate, i risvolti che sono stati trascurati, qualcosa di interessante e forse un barrumme di giustizia per la famiglia di Mirella Gregory potrebbe emergere. Il nostro numero di telefono è lo 055 24 77 985, lo ripeto, 055 24 77 985. Vi chiediamo di aspettare a telefonare perché Tom Masonelli e Igor Patrono possano dispiegare questo racconto e poi saremo lieti di ricevere le vostre domande sia al telefono in diretta, sia sul nostro canale YouTube. Do la parola a Igor Patrono, grazie. Bene, allora, intanto buonasera a chi ci sta ascoltando. Io direi che cercheremo di procedere andando molto serrati, perché le cose da dire sono davvero tantissime. Però prima di iniziare a seguire quella che è stata l'inchiesta che Tommaso ha condotto sia al tempo della sua tesi, che poi successivamente, almeno fino al 2019. Io credo che noi dobbiamo ripercorrere, cercando di chiarire bene gli orari, perché su alcuni orari, insomma, a volte si leggono, diciamo, delle drammatiche inesattezze. Drammatiche perché poi, come è noto, ecco, c'è una cosa che vorrei dire. Spesso non ci si pensa, però, ad esempio, tutti sanno quello che disse la dottoressa Gerunda, che fra l'altro condusse le indagini sul caso Orlandi per, se non vado errato, cinque settimane. Disse che la tensione, poi viene sostituita da Domenico Sicca, questo per completezza di informazione. Comunque disse che la tensione mediatica aveva certamente danneggiato e continuava a danneggiare le indagini. E credo che uno dei motivi per i quali, diciamo, venne sostituita è anche perché, insomma, aveva iniziato, no, a proprio a pretendere che, diciamo, i media la smettessero non tanto di informare, perché quello è giusto, deve accadere, i cittadini devono essere informati di tutto quello che accade. Io sono convinto di questo, ma intanto ci sono dei tempi che vanno rispettati. Mentre invece bisogna evitare di informare nel modo sbagliato, cioè nel lanciare piste inesistenti, nell'inseguire chimere. Ecco, allora anche il caso Gregori, come il caso Orlandi e come tanti altri casi mediatici, hanno subito questa, diciamo, sono stati divorati e nel divorarli però ciascuno ha inserito i pezzi che gli facevano più comodo. oppure semplicemente ha letto male i documenti o non li ha letti. Ecco, però c'è un dato che è fondamentale, come gli articoli che ha scritto Tommaso dal 2015 al 2019 resteranno sulla rete, si spera il più a lungo possibile, ecco, il web presenta un limite, così come restano gli articoli scritti da un giornalista d'inchiesta, che magari può commettere anche degli errori, ma in buona fede, restano anche le stupidaggini. E chi legge, chi vuole farsi un'idea, beh, nel momento in cui legge le stupidaggini, parte già con il piede sbagliato, parte già con un'informazione che è falsata. Ecco perché in questi casi, che a me più stanno a cuore, ci tengo maledettamente a che la vulgata venga cancellata. È fondamentale, è fondamentale. Altrimenti non si capisce nulla. Per cui adesso su questo ci siamo confrontati, ci sentiamo, ci mandiamo dei messaggi, cerchiamo di ragionare. Io cerco di capire perché a volte magari trovo degli articoli e vedo che ci sono delle cose che non tornano e quindi mi confronto con Tommaso. Allora, Tommaso, cerchiamo di ricostruire velocemente, con gli orari quello che accade dal momento in cui Mirella esce da scuola. Ok. Allora, buonasera a tutti. Intanto ringrazio Deborah per la bella presentazione. Un saluto anche a te, Igor, e condivido in pieno i tuoi ragionamenti sulla necessità di essere precisi, soprattutto nella fase di ricostruzione di quello che è il momento clou, drammaticamente clou di queste vicende, ovvero il momento in cui la persona, in questo caso la persona scomparsa, fa perdere purtroppo le sue tracce e contro ovviamente la sua volontà. Allora, sabato 7 maggio 1983, Mirella Gregori, 15 anni, figlia di una coppia che gestiva un bar a Via Volturno, una strada vicino alla stazione Termini, alle 13 e 20 esce dalla sua scuola, l'Istituto Professionale Femminile per il Commercio e Turismo, padre Reginaldo Giuliani, situato a Via dell'Olmata 4, al tempo situato a Via dell'Olmata 4. Via dell'Olmata è una strada di fronte alla Basilica di Santa Maria Maggiore, siamo praticamente al confine tra Rione Squilino e Rione Monti. Uscita da scuola, dopo aver salutato le compagne di classe, si dirige al bar di famiglia. Arriva al bar di famiglia intorno alle 13 e 35, alle 13 e 40, queste sono informazioni desunte dagli atti, alle 13 e 40 effettua questa telefonata a casa, dicendo alla mamma che sarebbe rientrata per il pranzo insieme al padre quando lui avrebbe terminato il turno e poi sarebbe stato avvicendato dalla sorella più grande di Mirella, Maria Antonietta, perché il bar era a conduzione familiare, si alternavano i genitori di Mirella con la sorella e l'allora fidanzato di Maria Antonietta che poi è diventato il marito. se non che Mirella poi ci ripensa e si dirige verso casa, situata a via Nomentana 91, distanza tra via Nomentana 91 e via Volturno un chilometro. Si dirige a piedi. Prima di salire in casa si ferma però al bar Italia, che era un locale situato sotto casa sua, gestito dalla famiglia De Vito perché lei era grande amica di Sonia, la figlia dei gestori del bar che era una sua coetanea, avevano frequentato le scuole medie assieme, ma questo rapporto di amicizia era proseguito anche negli anni successivi e come vedremo poi Sonia sarà un personaggio centrale in questa vicenda. Scambia davvero due parole con Sonia. Poi sale in casa, inizia ad aiutare la mamma a preparare il pranzo, se non che alle 14.45, come disse la mamma nella prima deposizione rilasciata in procura il 25 o 26 maggio 1983, qui sulla data non sono sicura al 100%, ma perché il verbale fu redatto appena e dalla grafia non si capisce se fu 25 o 26 maggio. Il fatto sta che la mamma, la titolare dell'inchiesta, che era il sostituto procuratore Giuseppa Geremia, che fu la prima titolare delle indagini su Mirella Gregori, disse che 14.45, 14.50 suona il citofono. Suona il citofono, di casa Gregori va a rispondere perché Mirella non è il padre, bensì un individuo che rimarrà avvolto dal mistero. Perché? Perché questo soggetto si presenta al citofono, non fa capire bene la sua identità, fatto sta che Mirella, come riferisce la mamma, ma gli chiede chi fosse, proprio le dice testualmente, e leggo perché me lo sono segnato, se non mi dici chi sei, riattacco. E poi successivamente, queste sono proprio le frasi riportate dalla mamma in procura, Mirella disse che la terza media, in pratica, chi era al citofono? Mirella era un individuo che si spacciò per un suo ex compagno di classe delle medie di nome Alessandro. Costui, come si apprende sempre dai documenti, le propose di vedersi, le propose un appuntamento a piazzale Porta Pia e con l'aggiunta di andare poi a Villa Torlonia a suonare la chitarra insieme ad altri amici. Se non che Mirella quel pomeriggio aveva già un appuntamento con alcune compagnie di classe, alcune amiche che tra l'altro abitavano a Centocelle, distante quindi da Via Nomentana, per cui Mirella rimase d'accordo con questo fantomatico Alessandro che sarebbe scesa soltanto per un saluto alle 15.30 al piazzale di Porta Pia, al piazzale di Porta Pia che da casa di Mirella Gregori distava, perché poi la famiglia si trasferì e anche la sorella oggi abita da tutt'altra parte, 300 metri. Alle 15.25, dopo aver mangiato in fretta e furia, come disse la mamma, Mirella esce di casa, non prende la borsa con i documenti, perché la sua intenzione era proprio quella di fare un saluto e di ritornare a casa, visti i suoi appuntamenti, i suoi successivi appuntamenti pomeridiani. Una volta uscita di casa si ferma nel bar di Sonia e con Sonia parla per circa 15 minuti. Parlano nella toilette del locale e Sonia racconterà che Mirella appunto le riferì che era venuta a cercarla questo Alessandro delle Medie e lei tra l'altro si era anche truccata per l'occasione. In questo quarto d'ora si sono dette questo e basta, si sono dette altro. Questo non lo sappiamo con certezza, perché Sonia ha sempre raccontato, ha sempre riferito, che la loro conversazione si basò fondamentalmente su questa improvvisata fatta da questo fantomatico Alessandro, perché i due, Alessandro e Mirella, non si vedevano praticamente dagli esami della terza media. In quei due anni si erano visti soltanto in due circostanze. una scena di classe e un incontro occasionale a Piazza Sempione, anche perché questo Alessandro delle Medie abitava a Viale Carnaro, che è una strada vicino Piazza Sempione. Si incontrarono lì per caso perché lui stava andando a giocare a basket, mentre lei stava aspettando il fidanzato dell'epoca. Era il dicembre del 1982, era un ragazzo di nome massimo, più grande di lei, che abitava a Torlupara, che è una donna. Sonia rimase anche un po' perplessa che questo Alessandro si fosse fatto nuovamente vivo dopo due anni. Analoga perplessità era stata manifestata anche dalla mamma di Mirella, e più o meno sempre per lo stesso motivo, cioè ormai questi due ragazzi avevano preso strade differenti per i loro percorsi di studi e quindi anche per le loro vite. A ogni modo, alle 15.45, con un quarto d'ora di ritardo rispetto all'orario dell'appuntamento, Mirella esce dal bar Italia e si dirige verso Piazzale di Porta Piazza. Purtroppo, da quel momento in avanti, di lei non avremo più notizie. Per chi ci sta ascoltando, senza commentarli, io direi che ci sono dei passaggi fondamentali in tutta questa vicenda. Il primo passaggio è che lei raggiunge il bar e fa una telefonata. Piazzale dice che tornerà con il papà, poi in realtà dopo qualche minuto cambia idea. Procede da sola, incontra Soglia brevemente e poi inizia, diciamo, sta con la mamma, aiuta a preparare il pranzo e poi arriva finalmente questa citofonata. Finalmente nel senso che adesso vorrei leggerla perché chi ci sta ascoltando deve capire una cosa fondamentale. Cioè, gli elementi di cui tu hai parlato sono stati desunti successivamente dalle parole che la mamma ha ricostruito, e soprattutto da alcuni interrogatori, in particolare un interrogatorio, che è quello di Sonia Levito. Si potrebbe dire che a parte questo è molto difficile capire, cioè oltre non si può andare, ma soprattutto che quello che noi presumiamo di sapere è costruito su un ricordo, io mi metto in dubbio assolutamente, perché tra l'altro anche Maria Antonietta l'ha detto più volte, mia mamma ricordava esattamente le parole pronunciate quel giorno, quindi io ci credo che le ricordava perfettamente. Ma è pur sempre una ricostruzione. Non sono. Non si capiscono le sottigliezze, si possono perdere, anche se ricordava esattamente le parole. Magari c'è qualcosa che è sfuggito. E poi soprattutto Sonia. Sonia racconta una versione, la sua. La telefonata ha dei passaggi chiave. Chi sei? Se non mi dici chi sei, riattacco. Sei della terza media? Quindi già qui si capisce che c'è stato un passaggio, no? Ammesso che dall'altra parte ci fosse davvero... Poi alla fine lo dobbiamo dire, ammesso che non fosse una messa in scena quello che stava dicendo. Ma noi vogliamo prestare fede a Mirella. Diciamo che non era una messa in scena. E che quindi lei ha realmente interagito con qualcuno. Ecco. Va bene, dimmi chi sei. Quindi ancora questo soggetto mi sta dicendo chi sei. Poi lei dice, Alessandro. Noi adesso non sappiamo il tono con il quale l'ha detto. E poi c'è un ah ciao. Che fa pensare quasi ad una delusione, no? Come se... Magari lei pensa di stare a parlare con Alessandro e poi dice ah ciao. Oppure no. Insomma è difficile l'interpretazione. E poi è, ma sei matto? Io devo ancora pranzare. Quindi questo è più semplice. Per chi scrive dialoghi come me è chiaro che qui c'è una richiesta di scendere subito giù. No? Di vedersi subito. E poi c'è la chiusura. Ci vediamo alle tre e metà a porta a via sulla scalinata. Ecco. No. In realtà quello che abbiamo, l'unica cosa della quale ci si può fidare, a mio avviso, anche se è una ricostruzione, sono queste parole. Perché tutto il resto sempre, a mio avviso, beh, insomma, potrebbe essere una interpretazione, potrebbe essere una reticenza. Insomma, su tutto il resto, francamente, c'è da dubitare. C'è da porsi delle domande. Ora, quando tu hai iniziato questa inchiesta, hai fatto una scoperta abbastanza interessante. Cioè, hai scoperto che c'erano almeno 56 contatti di amicizie. Sì. Nei diari e nelle agenti. 56. 44 femminili e 12 maschili. Però hai anche notato che da questi 56 contatti mancano i cosiddetti amici del gruppo di Sonia. Ora, spieghiamo un po'. I gruppi di riferimento di Mirella erano fondamentalmente due, tre. Il gruppo di Centocelle, il gruppo di Sonia e poi la parrocchia di San Giuseppe. Leggendo la tua inchiesta, quello che hai pubblicato, quello che ci siamo detti, possiamo aggiungere che nel gruppo che tu hai definito di Sonia c'era sicuramente qualcuno che frequentava anche la parrocchia di San Giuseppe. Ecco, questo è il quadro. Vuoi parlarne meglio? Vuoi raccontare meglio il tipo di indagine che hai condotto? Perché io so che poi ci sei andato giù, hai cercato in tutti i modi di individuare questi soggetti. E soprattutto, quanti di questi soggetti sono stati ascoltati? Ecco, allora, esatto. Partiamo dai gruppi sociali di Mirella Gregori. Il gruppo sociale principale era quello di Centocelle, che era formato dalle compagne di classe e dai rispettivi fidanzatini. La scuola che frequentava Mirella Gregori era composta interamente da ragazze e la maggior parte delle sue amiche con le quali lei usciva oppure andava a pranzo o queste ogni tanto andavano a pranzo a casa sua abitavano a Centocelle. Poi lei aveva questa amicizia forte con Sonia e tutte queste informazioni sui suoi universi sociali io le ho desunte dalla lettura dei diari e delle agende. Dove lei, diari scolastici e poi delle agende personali, dove lei riportava ogni tanto quello che faceva nel tempo libero. Per esempio, in due occasioni andarono in discoteca, una volta a una discoteca a via del quartiere africano, un'altra volta a una discoteca sull'Ostiense. Oppure Mirella aveva una grande passione per la musica, in due occasioni andò a un concerto di Claudio Baglioni. Ma in questi effetti personali compaiono anche delle giornate o a Luna Park dell'Euro o al mare con delle persone che facevano parte del gruppo delle amicizie di Sonia e di quello che era poi allora il compagno di Sonia, che era più grande di lei, era già maggiorenne e in questo gruppo c'erano altri ragazzi già maggiorenni e quindi dotati di patente, dotati di macchina. Io ho trovato anche di weekend in località balneari del Basso Lazio, dalle parti di Borgo Grappa, dalle parti sopra, sempre in quella zona, Borgo Grappa, Borgo Sabotino. Un weekend dove, stando sempre a quanto scritto su questi diari, avevano anche dormito fuori nel fine settimana. Mirella poi, alla fine dell'ottobre del 1981, aveva anche ricevuto la Cresima e quindi frequentava anche la parrocchia di San Giuseppe al Nomentano. Un luogo che non è mai stato indagato, che non è mai stato esplorato dagli inquirenti. Come non sono mai state approfondite queste conoscenze, queste frequentazioni che avevano a che fare con il gruppo di Sonia? Perché di interrogatori agli atti non ce ne sono. Tra l'altro, nonostante questo alto numero di contatti, anche le compagne di classe delle superiori, oppure le compagne di classe delle medie, i cui numeri di telefono erano presenti nel diario di Mirella, però anche di questo gruppo nutrito, le persone ascoltate, almeno ufficialmente, sono state poche, molto poche. E basti pensare che l'intero fascicolo su Mirella Gregori, dal 1983 fino alla fine degli anni Ottanta, è composto soltanto da 357 fogli. Quindi un numero molto esiguo in questo incartamento. Poi non è che ci sono soltanto atti come audizioni, interrogatori o rapporti di polizia o carabinieri, ma ci sono anche magari lettere anonime. C'è anche atti di ufficio, quindi bisogna anche scremare un numero di documenti che è già molto ridotto. Io sono riuscito a parlare, è stata un'indagine molto complicata, perché sono riuscito, riuscì a parlare ai tempi della tesi di laurea con una sua ex compagna di classe del primo anno delle superiori che mi tratteggiò questa ragazza affettuosa, generosa, sempre pronta ad aiutare gli altri, ecco che non si faceva proprio problemi a dare una mano se qualcuno aveva bisogno. Poi appunto una ragazza socievole, una ragazza che amava stare in compagnia, poi dallo studio dei documenti ho ricavato queste informazioni, ma queste informazioni poi sono state anche la base per cercare di approfondire quelle zone che gli inquirenti non hanno esplorato. Per esempio la parrocchia di San Giuseppe al Nomentano. Io andai a cercare il sacerdote dell'epoca, prima presso la sua abitazione dove non lo trovai, tra l'altro al citofono mi mandarono via anche con una certa fretta, furono molto sbrigativi, e poi li telefonai e lui però mi liquidò velocemente al telefono dicendomi che Mirella se la ricordava vagamente, che per lui era una ragazza come tante altre. Perché è importante la parrocchia di San Giuseppe al Nomentano nella vicenda di Mirella Gregori? Questo lo scopriamo a dieci anni dal fatto, perché nel 1993 la mamma, una giornalista, racconta una scena alla quale aveva assistito dieci anni prima, nell'83, quando sparì la figlia, e alla quale si collega un altro episodio che lei visse in prima persona nel 1985. Tutto parte proprio da questo ultimo episodio. Il 15 dicembre del 1985 di Mirella Gregori non abbiamo, non si hanno più notizie, Giovanni Paolo II è in visita alla parrocchia di San Giuseppe al Nomentano. Al termine della funzione riceve in udienza il padre e la madre di Mirella. A quell'epoca la vicenda di Mirella era già stata accostata alla vicenda di Emanuele Orlandi, tanto che i due casi, anche dal punto di vista investigativo, procedevano assieme. E questa associazione poi, vedremo, sarà penalizzante per la verità su Mirella. Mentre aspettano di essere ricevuti, la mamma nota nel personale di vigilanza un uomo che lei racconterà una volta che la vide, una volta che incrocia il suo sguardo, ha una reazione imbarazzata e gira la testa da un'altra parte. Fa come, cioè, palesa proprio un fastidio alla visione di questa donna e tanto che fa anche finta di non vederla. Poi parleremo meglio, fra breve ne parleremo meglio. Per ora va bene questo. Va bene questo. Quindi, cioè, che cosa fa? No, è la mamma niente. La mamma poi, vabbè, i genitori vengono ricevuti da Giovanni Paolo II e poi una volta all'uscita lei sperava di rivedere quell'uomo ma era sparito. Racconterà alla giornalista che quest'uomo era lo stesso uomo che lei nei mesi precedenti la scomparsa di Mirella aveva visto ai tavolini del bar dei genitori di Sonia intrattenersi a più riprese con Mirella e con Sonia. Di questo individuo lei fornisce una descrizione. Questa descrizione poi l'aveva portata a anche consegnare un nome all'inquire. Lo vedremo, poi lo vedremo, poi vedremo come va a finire quella vicenda. L'altro episodio qual è? Quello... Riferito sempre a... Aspetta, a cosa ti riferisci? Alla Chiesa tu hai detto che ci sono due episodi. Eh sì, ci sono due episodi perché poi quest'uomo viene... L'uomo, il nominativo che la mamma aveva consegnato agli inquirenti viene preso in esame dal giudice istruttore ad allerando nel 1993, viene predisposto un confronto tra la mamma e quest'uomo. La mamma dice di essersi sbagliata, non riconosce in quella persona l'individuo del bar e quello che aveva visto nel personale di vigilanza di Voitigua. Quest'uomo poi esce dalla cittadella giudiziaria al telefono sotto controllo, viene... Chiama la moglie per riferire l'esito dell'interrogatorio e... E se pronuncia una frase che adesso leggiamo, allora dobbiamo dire chi è quest'uomo, poi magari poi magari lo spiegherai bene, il suo nome è Raul Bonarelli. Sì. L'intercettazione è così, letteralmente, per me è uno di quelli che stava lì intorno in quel periodo, uno di quelli che collaborava pure, che ce ne ha avuti tre o quattro di questi praticoni prete, no? esatto, esatto. E questo... Questa è l'intercettazione. Questa è l'intercettazione. Quindi Raul Bonarelli, che non era l'uomo del bar, questa figura misteriosa che io ho ribattezzato ignoto signore degli aperitivi, Raul Bonarelli al telefono alla moglie, senza volerlo, dà un'indicazione su chi poteva essere l'individuo per il quale, col quale era stato confuso dalla mamma di Mirella. Quindi per chiudere questo ragionamento. E per chiudere questo ragionamento... Era Raul Bonarelli, però lui fa riferimento a un certo praticone, esatto, esatto, che praticamente collaborava con il prete. Sì, era un... Lui fa riferimento a questa figura, a una di queste figure che frequentavano la parrocchia e che aiutavano nell'organizzazione delle funzioni e dell'attività della parrocchia il prete di allora. Ed è questo il motivo per il quale io... Il secondo motivo per il quale poi ero andato ero andato a cercare quel sacerdote. Proprio perché da queste parole di Raul Bonarelli emerge un possibile spunto investigativo. Spunto investigativo che è del 1993, ottobre 1993, spunto investigativo che però non fu preso in considerazione dagli inquirenti, ma non è stato preso in considerazione né all'epoca, 1993, né successivamente nel corso della seconda inchiesta giudiziaria. E in entrambe le inchieste un errore che è stato commesso, grave, secondo me, è che non è mai stato, oltre a non essere andati a cercare nella parrocchia di San Giuseppe Pallomentano perché è un ambiente che è proprio passato inosservato, ma un altro errore commesso è il mancato confronto tra Sonia e Raul Bonarelli che doveva comunque essere espletato proprio per completare completare le verifiche sul racconto che aveva fornito la mamma. Racconto che la mamma, ripeto, prima rilascia questa giornalista nel 1993 a giugno e poi nello stesso anno formalizza anche in sede istruttoria. Nonostante il nominativo di Raul Bonarelli lei l'avesse consegnato molti anni prima nel 1987. Come lei era arrivata a Raul Bonarelli ci era arrivata perché dopo l'incontro in parrocchia cominciò a fare delle domande, a fare delle ricerche personali in zona e scoprì che nella via parallela alla loro abitazione ci abitava quest'uomo. Esatto. Allora, quest'uomo non è uno qualsiasi, è un funzionario della vigilanza vaticana. Quindi noi adesso la mamma si è ricreduta e diciamo visto la situazione visto che stava in un confronto evidentemente onestamente ha riconosciuto di essersi sbagliata. Quindi noi sappiamo però che questo Raul Bonarelli che appunto era uno dei funzionari più importanti della vigilanza del Papa insomma dice che e che abitava a Via Alessandria mi sembra via Alessandria però fa un'affermazione estremamente importante cioè dice che molto probabilmente la persona che aveva guardato storto la mamma di Mirella e che poi era sparita sì perché la particolarità la particolarità di questo signore che frequentava il bar e questo lo disse sempre la mamma di Mirella è che all'indomani della sparizione della figlia la sparizione di Mirella lui smise di frequentare il bar dei genitori di Sonia esatto quindi questo soggetto visto dalla mamma in occasione della visita del Papa a San Giuseppe a Nomentano visto prima dell'incontro con Giovanni Paolo beh insomma c'era nell'entourage delle persone che accompagnavano il Papa o comunque no che che lavoravano per questi che hanno lavorato no per la sicurezza probabilmente no in questa visita c'era un soggetto che probabilmente frequentava anche il bar di Sonia c'è proprio da fare alla fine questo è quello che si conclude no è quello che deduciamo dall'analisi di tutte queste informazioni assolutamente andiamo avanti perché appunto abbiamo detto che vogliamo essere molto serrati e di tempo non ce n'è molto se vogliamo fare tutto quello che ci siamo ripromessi tu durante le tue ricerche sulla scomparsa Emanuele Orlandi ad un certo punto trovi un documento del SISDE datato 31 ottobre 1983 ecco quando lo hai letto che hai pensato? intanto raccontaci prima dici che cosa hai pensato e poi raccontaci il documento allora io appena ho letto questo documento davvero ho fatto un salto sulla sedia e l'ho riguardato perlomeno cinque volte perché non mi sembrava non mi sembrava vero quello che avevo che avevo letto allora durante le ricerche sulla vicenda di Emanuele Orlandi mentre stavo consultando tutta una serie di documenti per la scrittura del mio libro mi imbatto nella documentazione che il SISDE o meglio il SISDE sì e i servizi i servizi segreti anzi l'AISI per la verità nel 2013 aveva trasmesso ai magistrati che stavano conducendo l'inchiesta a Orlandi Gregori vi erano numerosi atti dei servizi su Emanuele la scomparsa di Emanuele Orlandi e poi improvvisamente salta fuori questo documento del SISDE relativo alla vicenda di Mirella Gregori quindi il documento era stato redatto dal SISDE la trasmissione il nuovo servizio il nuovo servizio esatto perché nel 2013 il SISDE e il SISMI non esistevano più erano stati sostituiti da AISI e da AISE cosa era successo? era successo che nel luglio di quell'anno appunto i magistrati avevano fatto richiesta alla nostra intelligence di acquisire tutti gli atti tutti gli atti la documentazione in loro possesso su queste due vicende e quindi dopo due settimane viene consegnato loro questo questo dossier dove appunto trovo questo atto trovo questo atto e questo atto riporta riporta la trascrizione di una conversazione avvenuta alla fine di ottobre del 1983 all'interno del bar Italia tra Sonia De Vito e una sua amica questa in questa conversazione a un certo punto Sonia dice all'amica parlando della vicenda di Mirella Gregori certo lui ci conosceva contrariamente a noi che non lo conoscevamo quindi poteva fare quello che voleva come ha preso Mirella poteva prendere anche me visto che andavamo insieme c'è da fare una precisazione molto importante a differenza di altri documenti che sono scritti con l'uso del condizionale perché formulano delle ipotesi questo documento è scritto con l'utilizzo dell'indicativo quindi quanto riportato è avvenuto perché fu possibile questa trascrizione perché una fonte del servizio si trovava all'interno del bar poi andremo anche a parlare del perché i servizi si occuparono della scomparsa di Mirella Gregori qui però l'attenzione non è certo perché il CISDE aveva una sua fonte in quel bar qui ciò che che fa strabuzzare gli occhi sono queste frasi di Sonia perché da queste frasi ecco le vuoi raccontare ecco raccontale meglio che cosa che fanno emergere queste frasi fanno fanno emergere fanno emergere che Sonia conosceva stando a queste frasi stando a queste frasi che Sonia conosceva la persona che si portò via Mirella Gregori la persona responsabile della sparizione di Mirella Gregori ci sono i virgolettati a queste parole queste non sono parole ricostruite o libere interpretazioni questo è un documento del nostro servizio segreto civile nero su bianco verba volant scripta manent dicevano i latini siamo alla fine di ottobre del 1983 sono trascorsi cinque mesi e mezzo dalla sparizione di Mirella Gregori non sappiamo niente su di lei Sonia era già stata sentita innumerevoli volte da polizia e soprattutto carabinieri queste non aveva mai detto nulla del genere assolutamente no assolutamente no è gravissimo che dopo queste parole Sonia non fu non è che non fu chiamata che di queste parole nessuno le abbia mai chiesto nulla soprattutto nella seconda inchiesta giudiziaria nella seconda inchiesta giudiziaria perché questo documento arriva in procura a luglio del 2000 a fine di luglio del 2013 l'inchiesta viene archiviata a ottobre del 2015 la richiesta di archiviazione era stata formalizzata a maggio voglio dire ci sono stati quasi due anni per poter richiamare Sonia e chiederle perlomeno conto di queste di queste di queste affermazioni perché queste sono affermazioni virgolettate sono affermazioni virgolettate tra l'altro la documentazione dei servizi era stata chiesta anche nel 1993 però non so se di fosse anche questo atto perché all'interno dell'inchiesta Orlandi Gregori la documentazione del 93 chiesta al 1993 barra 1994 non compare quindi questo non è possibile affermarlo però nel 2013 sì io pubblico questo documento nel 2016 a settembre e questo documento passa in sordina nel senso nessuno lo ha preso per formalizzare un'istanza di riapertura delle indagini quando invece era doveroso farlo doveroso farlo anche perché l'inchiesta sulla scomparsa di Mirella Gregori le indagini sulla scomparsa di Mirella Gregori nella seconda inchiesta giudiziaria eccezionfale fatto poi per quando entra in scena Marco Accetti ma poi si fermano con il 2011 quando furono risentite alcune persone che erano già state sentite all'epoca sì fondamentalmente sì fondamentalmente sì nella seconda inchiesta giudiziaria su Mirella è stato molto superficiale tra l'altro nella seconda inchiesta giudiziaria perché l'approfondimento venne fatto su Emanuella Orlandi su Emanuella Orlandi anche perché quell'inchiesta fu l'inchiesta che percorse la pista della banda della Magliana la banda il nome di Mirella Gregori nella banda della Magliana se si esclude la telefonata a chi l'ha visto ma poi non salta mai non esce non esce mai fuori cioè ci fu ci fu proprio una sproporzione nelle attenzioni in un rapporto in un rapporto inverosimile tipo 95% di attenzione a Emanuella Orlandi 5% a Mirella Gregori e voglio dire su questa ragazza le indagini sono state condotte in modo sommario è un fatto che è stato penalizzato dall'accostamento con Emanuella Orlandi perché anche nella prima inchiesta giudiziaria anzi è proprio la prima inchiesta giudiziaria che fece diventare Mirella Gregori un satellite perennemente all'ombra del pianeta Emanuella Orlandi non siamo giunti a nulla salta fuori un documento del genere mannaggia la miseria è possibile non prenderlo minimamente in considerazione è possibile trascurarlo e lasciarlo così in mezzo a una montagna di di carte no questo è un fatto secondo me molto grave è un fatto molto grave e è necessario che invece venga riaccesa l'attenzione intorno a questo documento oltretutto oltretutto scusa perché poi le considerazioni vengono mentre si parla oltretutto questo documento poteva essere anzi è è la leva per far sì che finalmente la vicenda di Mirella Gregori venga analizzata in maniera autonoma che venga scollegata da Emanuela Orlandi e venga affrontata autonomamente quindi cioè non so non so che che altro che altro perché ci si lamenta sempre che non escono mai novità che non si fa mai avanti nessuno che tra tra l'altro il non farsi avanti secondo me è anche comprensibile soprattutto più passa il tempo e più le persone hanno paura secondo me a parlare anche perché l'attenzione mediatica oggi è notevolmente posso farti una domanda perché tra l'altro so che ci sta ascoltando ma tu hai avuto modo di parlare con Maria Antonietta Gregori di questo? hai avuto modo di parlare? Mirella Gregori la ragazza inghiottita dalla terra tra l'altro hai presentato tu no? sì sì io ho fatto la presentazione e gliel'ho chiesto appunto a Maria Antonietta che era al tavolo con noi quindi gliel'ho chiesto pubblicamente tra l'altro sì gliel'ho chiesto pubblicamente e lei mi ha detto che loro l'avevano valutato e volevano aspettare prima di intraprendere un'azione cioè lei l'aveva letto l'aveva insomma preso 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 atto di questo documento questo vuol dire che insomma ha preso atto di un documento fondamentale assolutamente sì assolutamente sì qui ripeto cioè qui non siamo davanti al soggetto che al tal dei tali che una mattina si sveglia e dice ora vi racconto come sono andate le cose e poi il più delle volte si scopre che i suoi racconti non sono altro che castelli di fantasia figli spesso di menti fertili dall'immaginario fertile qui è un documento ufficiale che si vuole di più guarda adesso dirò una cosa diciamo abbastanza interessante spero che sia interessante una persona che si è occupata di questo caso adesso non dirò in che veste se ne è occupata altrimenti ne in qualche modo come dire ne rivelerei il nome quando ho saputo che noi avremmo fatto questa che io avrei fatto questa intervista voluto sapere un po' di cose poi credo che si sia io lui ti conosceva ovviamente ti conosce per la vicenda di naturalmente di Emanuela atto di dolore e e lui mi ha detto ma voi parlerete dell'uomo biondo ecco allora una persona che io stimo tantissimo adesso importante meno importante non voglio dire nulla però si è occupata di questa cosa se ne è occupata per molto tempo sì mi ha detto ma voi parlerete dell'uomo biondo non aveva letto i tuoi articoli adesso li ha letti allora questa è una persona ora lo ha letto questa persona è ben informata sui fatti allora uomo biondo dallo studio adesso abbiamo diciamo c'è un documento del SISD che dice che molto probabilmente per non dire certamente la De Vito sa molto di più di quello che ha detto e sa molto di più sull'identità di questo soggetto diciamo che forse immagina chi è ma non l'ha detto adesso noi che elementi abbiamo non l'ha detto e non le è stato chiesto non l'ha detto non le è stato chiesto e questo fa la differenza perché poi c'è poco da fare ecco un conto è fare un'intervista e decidere che cosa dire un conto è parlare con un magistrato sono due cose completamente diverse quando qualche nostro collega confronta i verbali degli interrogatori con le successive o precedenti interviste commette un errore un errore storico ma soprattutto un errore di valutazione perché un conto rilascia interviste un conto è rispondere alle domande di un magistrato sono due cose completamente diverse metterle a confronto a mio avviso è una follia comunque quello che ci resta purtroppo è pochissimo e questo pochissimo gira tutto intorno all'uomo biondo sì allora dallo studio degli atti ho scoperto che negli ultimi due mesi di vita di Mirella Gregori compare per quattro volte nella sua vita un soggetto biondo allora una di queste comparse anzi una di queste apparizioni la prendiamo da Sonia De Vito perché perché ascoltata nel novembre del 1983 dai carabinieri per davvero l'ennesima volta lei racconta che Mirella a sua volta le aveva raccontato nel mese di marzo che una volta uscendo da scuola fu avvicinata da un giovane uomo biondo alla guida di una vettura questo ben vestito si presentava si presentava bene e questo l'aveva seguita per un tratto all'uscita da scuola chiedendole anche se avesse voluto un passaggio o meno ma Mirella rifiutò poi che cosa succede succede che pochi giorni prima della scomparsa di Mirella esattamente anzi alla vigilia della scomparsa il 6 di maggio la famiglia dà un rinfresco il pomeriggio nel bar perché aveva rinnovato i locali avevano fatto dei lavori di ristrutturazione a un certo punto si presentano due soggetti che chiedono di fare le fotografie delle fotografie all'interno all'interno del bar la mamma li respinge perché gli dice no non siamo interessati questa è una festa privata e uno di questi soggetti era un giovane uomo biondo come lo apprendiamo lo apprendiamo perché la mamma sempre nella prima deposizione in procura alla fine di maggio dell'83 oltre a menzionare questo episodio qua del bar racconta un altro episodio avvenuto il 2 di maggio nella scuola di Mirella dove si presentarono due giovani uomini che chiesero a una delle segretarie notizie su un'allieva della classe di Mirella anzi alla Bidella scusa allora chiesero alla Bidella informazioni su una ragazza della classe di Mirella ma lei non si ricorda qual è lei non si ricordava il nome di questa ragazza lei disse a questi due individui che si presentarono come fratelli di questa ragazza di ritornare più tardi nel pomeriggio quando avrebbe aperto la segreteria questi però non si presentarono la mamma si fece la mamma di Mirella si fece fare la descrizione di queste due persone e disse al magistrato che uno di questi soggetti aveva la stessa descrizione fisica del biondo che si era presentato al bar per fare delle foto e siamo già a tre il quarto la quarta presenza il quarto giovane uomo biondo nella vita di Mirella viene fuori sempre dalle deposizioni della mamma ma più avanti nel tempo 85 86 la mamma racconta ricorda e racconta che nei giorni immediatamente seguenti la sparizione della figlia tra le varie persone che erano andate a confortarla c'era stata anche un'inquilina del palazzo dove abitavano e quest'inquilina le raccontò che aveva visto nel mese di aprile del 1983 Mirella a passeggio a via del Macao via del Macao una piccola traversa tra via Volturno e piazzale di Porta Via praticamente anzi è una parallela interna di via Volturno dietro il bar dei Gregori vide Mirella sotto braccio a passeggio con un giovane uomo biondo quindi c'è questa figura che improvvisamente si materializza nella vita di Mirella in maniera diretta o in maniera indiretta negli ultimi due mesi di vita questo fa pensare che ci sono degli fa ulteriormente pensare che ci siano degli ambienti sociali di Mirella che non sono stati sufficientemente indagati ci si è mai chiesti se questo giovane uomo biondo fosse un elemento della parrocchia si è mai andati a guardare se tra gli amici del gruppo che faceva capo a Sonia De Vito ci fosse una persona con questa descrizione che corrispondeva a questa descrizione fisica anche perché ripeto i contatti maschili tra diari e giovane di Mirella erano 12 ma parlo dei contatti esclusi parenti ovviamente parenti tra l'altro che abitavano fuori e fuori non è fuori Roma fuori vuol dire a centinaia di chilometri anche perché se cominci ad abitare giù dalle parti del Circeo definirlo fuori Roma è un po' è un po' approssimativo però questi contatti erano contatti di ripeto di quasi tutti di coetanei quindi se non si indagano a fondo a 360 gradi tutti gli universi sociali di una persona specialmente di una adolescente di una ragazza che scompare all'improvviso in un luogo ipertrafficato perché piazzale di portavia transitano macchine davvero a ogni ora del giorno e della notte alle 15 e insomma 15 e 45 di sabato pomeriggio a maggio pieno giorno tra l'altro c'è il rapporto della della polizia di fine di fine agosto del fine maggio del 1983 dove loro esclusero l'ipotesi del rapimento perché fecero presente come la zona anche a seguito di tutta una serie di esercizi commerciali poi addirittura all'epoca c'erano pure i guardiamacchine quindi nessuno si accorse di niente nessuno si accorse di niente quindi tutto questo è vero che nessuno si è accorto di niente perché in realtà nessuno si è accorto di niente dell'apparizione ovvio dell'analità diciamo di assontanamento nessuno si è accorto di niente nel senso che non c'è stato un evento clamoroso un imprevisto che ha richiamato l'attenzione quindi Mirella quel pomeriggio seguì una persona che conosceva una persona che la ingannò perché si presentò come questo Alessandro delle Medie ma non era Alessandro Alessandro delle Medie perché questo Alessandro con un gruppo di amici trascorsero il sabato pomeriggio assieme da tutt'altra parte per il quartiere Trieste e ci sono le testimonianze io ho parlato anche con due di quegli amici che mi hanno mi hanno ulteriormente dettagliato quella loro giornata e poi poi questa la vediamo bene però nel libro di Rossi sì c'è un altro biondo sì perché Rossi ovviamente tu hai parlato è giusto che sia stato così no delle diciamo degli avvistamenti che in qualche modo emergono dagli altri poi vorrei che tornassimo un attimo al 6 maggio però adesso finisco di dire questa cosa su Rossi Rossi ha parlato con Giuseppe Calì chi era Giuseppe Calì era il cameriere del bar dei genitori di Sonia esatto di Sonia di vita e ha raccontato Calì che un individuo biondo sui 30 anni era frequentatore della parrocchia di San Giuseppe a Nomentano ma soprattutto del bar un cliente del bar ora noi lo diciamo perché è riportato in un libro ed è giusto che venga preso in considerazione quindi sarebbe un quinto biondo che in qualche modo girava intorno a a Mirella o agli ambienti di Mirella esatto ecco torniamo potrebbe essere stato anche uno uno di questi quattro o magari tutte e quattro coincidono con il quinto sì le ipotesi le ipotesi sono 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 molteplici no questa notizia quattro vada da Rossi è una testimonianza molto molto importante molto interessante perché va un po' a saldare quello che abbiamo detto noi fino ad adesso anzi va diciamo questo è il libro è il libro di Rossi lo facciamo vedere fra l'altro è stato ospite della notte del mistero quindi ecco in questo libro si parla di questa testimonianza ora torniamo però al set perché c'è un articolo che tu hai scritto che a me interessa che ricostruisce un po' che cosa è accaduto dentro al bar il giorno dell'inaugurazione quindi ricominciamo a raccontare che succede il 6 maggio c'è l'inaugurazione del bar che è stato ristrutturato sì del bar dei Gregori quindi siamo dove siamo abbiamo il turno bene vai racconta perché ci sono delle strane cose no? sì succedono succedono alcune alcune cose allora appunto come abbiamo detto quel pomeriggio i Gregori dettero questo rinfresco per il rinnovo del locale furono invitate anche gli amici le amiche di di Mirella e c'era anche il suo fidanzatino dell'epoca Massimo Forti col quale lei ebbe una piccola discussione o meglio lui se ne andò a un certo punto perché si sentiva trascurato poco considerato da lei cosa succede? questa è un'informazione raccolta sempre dal primo verbale della mamma la mamma racconta che quando si materializzarono questi due fotografi questo giovane uomo biondo poi accanto c'era una persona più anziana poi lei finisce di parlare con loro dà loro le spalle quindi torna a guardare all'interno del locale e nota un terzo individuo un terzo adulto dai capelli bruni che dà un cenno in direzione intanto che quando lei quando si materializzano questi due fotografi Mirella esce dal locale questo è un elemento importante cioè è importante ma è tenuto in considerazione è un elemento da prendere in considerazione Mirella è sparita le coincidenze esatto esatto proprio perché Mirella è sparita poi Mirella potrebbe essersi allontanata dal locale anche per altri motivi però nel momento in cui purtroppo è vittima di questo dramma non possiamo trascurare nulla e visto che l'episodio poi è successo 24 ore prima della sparizione visto quello che abbiamo detto su questo soggetto dalla capigliatura bionda ecco che lei che lascia il locale alla comparsa di questi due di queste due persone assume diventa meritevole di attenzione a ogni modo la mamma si accorge di questo terzo individuo un uomo dalla capigliatura bruna che nel momento in cui lei finì di parlare con quelle due persone fece un cenno con la testa in direzione o di Maria Antonietta o in direzione sua cioè della mamma di questo terzo uomo collegato a questi due come dinamica dell'azione non ne aveva mai parlato nessuno perché ci si era concentrati sempre su questi due fotografi comunque aspiranti tali che all'improvviso si materializzano nel locale e invece a parlarne è proprio la mamma e invece a parlarne è proprio la mamma cioè il primo verbale della mamma è una miniera di informazioni di spunti strepitosa strepitosa ed è il primo ed è il primo ed è il primo quanto è importante questo assolutamente perché siamo a una ventina di giorni scarsi dalla sparizione di Mirella quindi i ricordi sono freschi sono freschi e le piste erano ancora e gli spunti erano ancora caldi perché se si fosse iniziata un'azione martellante e capillare nei mondi di Mirella io non voglio dire se saremmo arrivati alla verità però sono convinto che gli spunti della mamma sarebbero approdati avrebbero dato dei frutti ecco allora tu hai hai sempre detto una cosa della quale sono convinto anche io ne sono convinto da sempre tu hai sempre detto che l'Alessandro che andava a scuola con Mirella evidentemente non può entrarci nella sparizione della ragazza c'è poco da fare per tutta una serie di motivi che adesso cercheremo di raccontare tant'è che tu hai chiamato questa la pista vigliacca sì una pista vigliacca perché prendersela senza motivi senza spunti anzi quando abbiamo degli alidi con questi ragazzi a distanza che oggi sono degli uomini a distanza di 40 anni davanti a uno scenario dove invece sono coinvolte realtà più potenti come per esempio la chiesa eh beh per me prendersela con i più deboli per me è sempre da vigliacca ecco soprattutto facendo allusioni e insinuazioni sempre eh nel libro eh di Fabio Rossi è un po' raccontata l'inchiesta che venne fatta Fabio Rossi dice che è un'inchiesta in chiaro scuro no? che lascia qualche dubbio secondo me non lascia nessun dubbio perché in realtà al di là del fatto che probabilmente non ricordano bene gli orari ma insomma quello che accade è abbastanza è stato ricostruito cioè ci sono i verbali purtroppo il Rossi eh li riporta in nota e e ne riporta solo una piccola parte eh poi non so se sono tutti quelli che che lui ha pubblicato in realtà sono 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 concentrati in alcune note del libro eh ma comunque rivela che l'inchiesta venne fatta e rivela che questi che Alessandro e i suoi amici beh insomma con questa storia non c'entrano concentrano non ci possono entrare e poi tu tu stesso hai fatto degli accertamenti tu ci hai parlato con loro sì con due di loro sì ecco racconta un po' allora intanto partiamo con la spiegazione del perché questa pista è un binario morto e questi ragazzi a cominciare da questo Alessandro De Luca non c'entrano assolutamente niente con la scomparsa di Mirella allora Alessandro De Luca fu subito contattato intanto c'è da dire dalla famiglia Gregori il giorno successivo la scomparsa di Mirella e lui ovviamente raccontò che quel sabato era con i suoi amici ma soprattutto che lui Mirella non l'aveva praticamente più vista dai tempi della scuola media venne subito interrogato perché l'11 maggio dell'83 Alessandro De Luca viene interrogato e racconta come quel pomeriggio lui alle 15.30 quindi quando Mirella avrebbe avuto l'appuntamento con questo ignoto interlocutore questo ignoto individuo alla statua del bersagliere lui usciva dalla sua abitazione per recarsi a casa del suo amico Raffaele Luongo che stava a Viale Libia per andare a Viale Libia lui da casa sua raggiunse piazza di Conca d'Oro che dista 600 metri a piedi da lì prese l'autobus all'epoca c'era il 58 si legge dai verbali e scese a Viale Libia dove abitava l'amico arrivando intorno alle 15.40 15.45 tant'è vero che questo Raffaele sentito anche lui alla metà di giugno del 1983 conferma cioè conferma racconta e lui poi quello che fornisce più dettagli e corrobora la versione di Alessandro De Luca che cosa fanno i due lì da Raffaele dopo due chiacchiere poi chiamano un terzo loro amico Elio Mazzacane che abitava a piazza Trasimeno vanno da lui si trovano a casa sua e poi lì vengono raggiunti da altri due amici e trascorrono il pomeriggio nel quartiere Trieste il quartiere Trieste è il quartiere della zona dove abitavano questi ragazzi io ho parlato sia con Raffaele sia con Elio mi hanno raccontato oltre la giornata poi che loro questa Mirella Gregori manco sapevano chi fosse perché Alessandro non aveva mai parlato poi loro questo gruppetto di cinque ragazzi si conoscevano perché andavano tutti a scuola assieme frequentavano il liceo scientifico Avogadro poi è venuto fuori che Alessandro De Luca non era al corrente della cotta che aveva che nutriva Mirella per lui lui ne era totalmente all'oscuro totalmente all'oscuro quindi abbiamo i racconti di come trascorsero il pomeriggio Alessandro non vedeva Mirella l'aveva vista soltanto due volte negli ultimi due anni quindi non si capisce perché quel pomeriggio dovesse andare a citofonarle a casa così di punto in bianco è proprio una pista una pista che fin dall'inizio si capiva che poi stiamo parlando di ragazzi di 15 anni come fanno a far sparire una loro coetanea dove la portano che non ce l'hanno la patente al limite avevano dei motorini al limite che poi me l'hanno raccontato i modelli erano proprio non erano scooter erano motorini un ciao un si motorini soprattutto tu scopri una cosa fondamentale cioè che Alessandro il motorino non l'aveva e poi Alessandro il motorino non l'aveva e poi Alessandro il motorino non l'aveva quindi e vabbè insomma questo è arrivato lì col motorino ha citofonato poi è andato poi chissà che ha fatto perché poi esce fuori di tutto escono fuori le mostruosità escono fuori il povero Alessandro non solo non sapeva suonare la chitarra poi non sapeva suonare la chitarra oltretutto non aveva nemmeno il motorino e non aveva nemmeno il motorino quindi non poteva essere lui il citofonista nella maniera più assoluta cosa succede? succede che ovviamente per questi ragazzi essendo stato quello un sabato come tanti altri quindi dove non successe niente di eclatante che ti rimane impresso nella memoria vennero ascoltati dagli inquirenti a parte Alessandro ma gli altri cominciarono a essere ascoltati a distanza minimo di un mese ma soprattutto ma di più anche e questi è normale che poi nel raccontare più volte quella giornata avessero potessero confondersi su qualche particolare addirittura vennero richiamati tra luglio e agosto mentre erano ognuno in vacanza uno era in Abruzzo l'altro era a Santa Marinella uno addirittura in Sardegna furono riconvocati perché raccontassero di nuovo che cosa avevano fatto sabato 7 maggio dei ragazzi di 15 anni a distanza di tre mesi ma che cosa ma è già tanto se si ricordano una 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 delle cose che avevano fatto quel giorno cioè una giornata voglio dire immaginiamoci noi trascorriamo un pomeriggio come tanti altri un pomeriggio di relax poi a 15 anni nemmeno da adulto che quindi magari hai più consapevolezza lì sei anche più più spezierato più ingenuo più distratto ce lo vengono a chiedere a distanza minimo di 40 45 giorni e poi proseguono o ti impari a memoria un copione e lo reciti sempre oppure è inevitabile soprattutto poi non è come dicevi te prima un conto è rilasciare un'intervista e parlare con un giornalista un conto è confrontarsi con anche un commissario di polizia un maresciallo cioè comunque senti la pressione ma dall'altra parte magari ti fanno delle domande più ficcanti delle domande un trabocchetto e magari te a 15 anni non hai una grandissima personalità preso anche un po' dalla paura comunque dal disorientamento cioè sono delle tecniche tecniche di interrogatorio esatto esatto quindi voglio dire è normale poi che magari uno dice i motorini ce l'avevano due l'altro dice no erano in tre ad averli di che cosa stiamo parlando e poi queste differenze dovrebbero essere prese come spunto per ritornare su quei ragazzi ma stiamo scherzando ma stiamo scherzando è per questo che io poi la definisco una pista vigliacca perché ripeto è a canirsi sull'anello debole della catena non solo uno di questi ragazzi fu sentito per la prima volta nel 1985 lo dice lui c'è il verbale dal magistrato dice io questa è la prima volta insomma che vengo che vengo convocato siamo a oltre due anni a oltre due anni questo qui quel poco che ha detto è perché l'avrà sentito raccontare dagli amici che erano già stati erano già stati ascoltati perché sfido io credo nemmeno un elefante si ricorda a distanza a distanza di due anni un giorno che cosa aveva fatto il tal giorno alla tal ora quindi questa pista proprio è da escludere questa pista però escludendola e quindi scagionando da ogni allusione da ogni insinuazione io ci tengo a dirlo perché quando le sento queste insinuazioni soprattutto su Alessandro De Luca veramente mi arrabbio veramente mi arrabbio perché siamo per me siamo nella calugna siamo cioè si sta accusando una persona che è estranea nei fatti di essere il responsabile della scomparsa di una ragazza sulla quale non sappiamo più nulla da 40 anni questo però cosa ci fa pensare ci fa pensare che chi era chi ci tofonò a Mirella era una persona che la conosceva molto bene e che quindi conosceva anche le sue debolezze in senso buono perché perché Mirella era così infatuata di questo Alessandro tra l'altro i due erano stati in classe soltanto in terza alle medie soltanto in terza media al punto che sul diario lei aveva scritto il suo nome sia per la data del compleanno sia alla data dell'onomastico poi io ho trovato un'altra pagina di diario con un altro indizio perché perché lei va in discoteca questa una domenica questa discoteca questo viking che era lì sempre nella zona del quartiere del quartiere africano e lo scrive sul diario che quel giorno era stata in quella in quella discoteca e sulla stessa pagina ci scrive ho conosciuto Alessandro e poi fa anche un apprezzamento su l'estetica di questo Alessandro ora qui le ipotesi sono ha conosciuto un nuovo Alessandro quel giorno in discoteca che era piacente ai suoi occhi come l'Alessandro delle medie oppure ha scritto un altro apprezzamento nei confronti dell'Alessandro delle medie in una data a caso del diario perché dire ho conosciuto Alessandro scrivere ho conosciuto Alessandro e mi sembra il periodo era gennaio no marzo mi pare fosse marzo aspetta te lo dico con esattezza 22 marzo ecco 22 marzo no scusa aspetta 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 aiuto no 25 gennaio 1981 ecco voglio dire gennaio la scuola è già iniziata ormai da da quattro mesi quindi non puoi dire ho conosciuto un ragazzo che è con te da 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 notevole tempo però anche qui ci troviamo davanti l'ennesimo punto interrogativo l'ennesimo punto interrogativo perché non c'è stata si poteva sciogliere adesso è un po' difficile molto difficile molto difficile per non dire impossibile si è mai andati a vedere se ci fosse stato un Alessandro nella parrocchia per esempio esatto poi c'è un particolare su Alessandro se abbiamo comunque che tu hai scritto su questa diciamo sul sul fatto che possa esistere un altro Alessandro hai scritto un articolo specifico no e quindi diciamo poi diremo un articolo specifico dove io formulo anche quest'ipotesi appunto che la persona che ci toponò a casa di Mirella appunto era a conoscenza di tutta tutte queste dinamiche della vita privata di Mirella quindi una persona che frequentava i suoi ambienti Mirella al bar con Sonia trascorreva molto tempo trascorreva molto tempo ma soprattutto trascorreva molto tempo con Sonia sempre dai diari si ricavano che ne so uscite per andare al cinema uscite per andare a prendersi un gelato uscite per andare a prendersi la pizza uscite per andare a comprarsi dei vestiti però se ripensiamo al racconto della mamma che aveva visto la figlia diverse volte parlare con l'ignodo signore degli aperitivi al tavolino del bar con Sonia mettiamo caso che il nome la simpatia per Alessandro fosse uscita in una di quelle conversazioni quell'uomo potrebbe averla sfruttata poi per tendere la trappola a Mirella non c'è dubbio e torniamo per chiudere un po' questo nostro aspetta sì no la caratteristica su Alessandro De Luca è che Alessandro De Luca aveva la R Mosch lo dice Sonia e infatti Sonia si chiedeva quando la interrogarono dice io mi chiedo come Mirella non possa averlo riconosciuto questo particolare al citofono proprio perché dice Alessandro aveva la R Mosch quindi capisci subito se può essere lui o non può essere lui è anche vero che uno magari a distanza di due anni quella caratteristica può averla dimenticata oppure è anche vero che magari al citofono che non è che brillino per per diciamo nel 1983 non è che si sentissero proprio bene bene gracchiavano esatto esatto non brillavano per chiarezza fonica magari non lo senti come particolare però c'è da notare anche quest'altro quest'altro indizio ecco anche qui è venuto fuori un particolare che poi vorrei che tu chiarissi di questa vicina di casa che parla di questo personaggio che poi riconosce in un identikit però parliamo un attimo del bar del bar frequentato cioè alla fine noi possiamo dire che poiché appunto Irella frequentava moltissimo Sonia cioè quindi possiamo dire che quello che ha detto una sua amica ovvero che il mondo di Mirella aveva una profonda dicotomia perché perché era formato fondamentalmente da due tipologie estremamente diverse di persone da una parte le sue compagne di scuola e magari i relativi fidanzatini dall'altra parte un mondo di adulti che girava invece intorno alla vita della sua amica e del fidanzato della sua amica quindi due mondi diversi un mondo appunto diversi se non altro proprio per l'età un mondo di coetanei e qualche ragazzo come tu hai detto all'inizio della diretta che magari aveva già la patente più grande adulto giovani adulti eh giovani adulti e invece un mondo di adulti perché perché il mondo che girava intorno a Sonia non era un mondo di ragazzini allora racconta un po' quello che hai scoperto no girando intorno alle carte perché poi il bar non c'è più è sparito da un bel pezzo nell'85 chiuso ecco nell'85 quindi eh che hai scoperto beh ho scoperto ho scoperto da alcune deposizioni che il bar Italia che era un bar questo poi me l'ha raccontato Fabio che ha parlato con con Calì il bar Italia comunque era un locale che aveva un'attività intensa un'attività cioè c'era molto molto lavoro ecco era anche perché era bar tavola calda quindi il flusso di clienti era era continuo ed era anche eh alto eh ho scoperto comunque un paio di deposizioni che eh raccontano come il locale fosse frequentato anche da individui poco raccomandabili o perlomeno queste sono le eh sensazioni che ebbero eh due eh persone uno era eh un giovane uomo che lavorava come portiere d'albergo in un hotel della zona eh lui aveva era uscito per un periodo con la compagnia di Sonia c'era anche Mirella l'aveva conosciuta e e lui disse agli inquirenti come poi aveva vabbè eh cambiato eh frequentazioni e come eh non andasse più al bar Italia perché non gli piacevano le persone che ci vedeva dice le persone che eh frequentano questo bar sono dei tipi poco raccomandabili ora queste sono eh ovviamente delle dichiarazioni soggettive però bisogna tenerne di conto sempre inserite nel contesto globale eh di tutto il dramma l'altra eh deposizione eh incanalata in questa dimensione è di eh Giuseppe Calì del cameriere che nel 1986 eh racconta come eh sempre nel 1983 sempre eh in un periodo antecedente la scomparsa di Mirella fosse eh si fosse materializzato nel locale eh un soggetto che avesse chiesto eh se e c'era anche Mirella dentro eh dentro il bar eh se quella fosse la eh come si dice eh la ragazza che aveva visto eh a un bar in via Volturno e in via Volturno come sappiamo avevano il bar i Gregori quindi viene anche da pensare che qualcuno avesse messo gli occhi su Mirella a te che cercava informazioni cercava di capire cercava cercava di capire ora a me ha colpito comunque che questa dichiarazione di Calì sia arrivata a distanza di oltre tre anni dai fatti lui fu anche sentito in precedenza però non aveva queste informazioni non le aveva non le aveva riferite però queste informazioni poi questa tipologia di informazioni si ritrovano anche in un altro ricordo della mamma di Mirella che nel 1985 riferisce come un'altra eh signora della zona mi sembra proprio del suo stesso palazzo le avesse raccontato di essere rimasta colpita dalla presenza di un individuo che davanti eh che trascorreva parte delle sue giornate lì al bar Italia e guardava la gente che entrava e eh usciva dal portone dello stabile dove vivevano i Gregori la mamma eh siccome erano usciti gli identikit sui giornali erano usciti gli identikit delle persone dei due fotografi che si erano presentati al bar de Gregori il giorno del rinfresco i due identikit che girano esatto da sempre è stato anche rielaborato molto recentemente no con tecniche fotografiche quindi ha assunto un aspetto magari distante dalla realtà non lo sappiamo forse più distante dalla realtà forse meno distante dalla realtà quasi di una fotografia anzi di una fotografia perché l'effetto è quello e poi c'è diciamo c'è quest'uomo con il ciuffo che pare fosse più grande e e l'uomo e l'uomo biondo no questi sono i due identikit a cui si fa riferimento la signora chi riconosce la signora riconosce l'individuo con il ciuffo quello con i capelli scuri e la carnagione è stata fatta diciamo la foto insomma è stato trasformato con una tecnica fotografica in un'immagine fotografica appunto la signora riconobbe lui che aveva capelli lisci carnagione olivastra ecco ed è bene ricordare che tutte queste cose le hai in qualche modo quasi tutte diciamo alcune fondamentali alcune fondamentali le hai messe insieme tu cioè erano nelle carte ma stavano lì stavano lì e sono rimaste cioè voglio dire adesso non voglio dire che questa cosa assomiglia al caso ad esempio di Natacella dove la criminologa che che poi appunto no Antonella Pesce Delfino ha ritrovato il fascicolo dei carabinieri e in procura non ne sapevano niente questi atti stavano stavano lì ce li avevano li hanno visti quindi se vuoi è ancora più insolito che perché quelli proprio sembra erano spariti per fortuna lei li ha trovati negli scatoloni degli avvocati no degli avvocati eh della famiglia Cella eh che la madre ha ripreso e gli ha consegnato in procura in procura non c'erano quel fascicolo non c'era quello dei carabinieri e qui invece le deposizioni ma soprattutto il documento del SISDE la stanno è curioso che non ci si non sia stata fatta diciamo un approfondimento però ecco ci tengo a dire perché questo è importante perché poi nel nostro mestiere le cose che contano sono queste cioè è la capacità di vedere quello che magari fino a quel momento nessuno ha visto ecco per cui io voglio dirlo cioè Tommaso ha fatto un'indagine che è l'indagine che dovrebbe fare appunto un giornalista d'inchiesta cioè quella di mettersi là poi magari qualcuno è più fortunato di te qualcuno è più sfortunato qualcuno è più fortunato di me qualcuno è più sfortunato però questo è il lavoro del giornalista d'inchiesta mentre invece non è lavoro del giornalista d'inchiesta quello di rubacchiare qua e là qualche informazione magari da un libro che hai scritto da un articolo che hai scritto e riportarlo tra l'altro malamente cioè senza aver capito bene il contesto aggiungendo confusione alla tanta confusione che già c'è allora questo lo diciamo perché nel nostro lavoro le soddisfazioni sono poche non è che siamo così tante no? però quella di poter dire guardate no? c'è qualcosa su cui forse vale la pena di concentrare l'attenzione c'è qualcosa che forse potrebbe addirittura portare a una riapertura dell'inchiesta su presupposti completamente diversi da quelli che fino a questo momento sono stati presi in considerazione beh insomma se mi permetti di dirlo è una bella soddisfazione sì la soddisfazione che ho io quando faccio questo lavoro è quando appunto trovo delle notizie delle informazioni che permettono poi a chi legge di migliorare la conoscenza su quella vicenda e un parallelo poi ovviamente quello di dare un contributo perché si arrivi un domani un domani che si spera sempre sia il prima possibile alla verità su queste su queste su queste tragedie anche perché da fuori per come ne avevo sentito parlare dicendo anche una vicenda come quella di Mirella Gregori era stata dipinta sempre come una sorta di Everest poi come sempre quando ti confronti con la realtà quando metti le mani nella in questo caso in questo caso viene a dire quando ci si sporca le mani perché poi sono vicende tragiche beh poi ti rendi conto che il mostro non esiste e ti rendi conto che con tenacia con dedizione con un briciolo di strategia si possono ottenere dei risultati interessanti e dei risultati che chi ha il potere poi di dei risultati che poi fanno da trampolino di lancio per chi ha il potere per dare le risposte a questi punti interrogativi io non mi muovo mai con l'intento di dare la soluzione o come se fossi che ne so alla ruota della fortuna oppure di convincere il lettore che le cose sono andate in un determinato modo il mio lavoro è quello di dare notizie il mio lavoro è quello di aggiungere conoscenze a quello che non si sa prima di ogni altra cosa di cercarle e poi di cercarle io ho con i quali magari mai nessuno ha parlato esatto qui ho un rammarico ora io sono un perfezionista quindi è raro poi che con me stesso sia contento al 100% però io un piccolo rammarico ce l'ho ed è quello che quando poi ho scritto gli articoli su Mirella Gregori pur avendo i documenti però non vivevo più a Roma e quindi non sono potuto andare a cercare tutti i contatti che erano sul suo diario cioè non ho potuto fare il lavoro che ho fatto per Emanuele Orlandi perché altrimenti io mi sarei mosso su tutta Roma perché ecco c'è un particolare prima noi abbiamo accennato ai diari contatti sui diari che questi contatti appartenevano a più zone di Roma più zone di Roma ma zone anche lontane tra loro perché io ho trovato dei contatti nella zona di Valmelaina e dei contatti sulla Tuscolana tu capisci bene che sono due zone molto distanti da casa di Mirella e da gli ambienti frequentati da Mirella o perlomeno gli ambienti ovviamente che conosciamo noi perché la vita di Mirella si sviluppava in quei tre chilometri nei quali sono comprese erano comprese l'abitazione la parrocchia di San Giuseppe Pallomentano la scuola e poi c'era Centocelle che però è un po' è un po' distante ma Centocelle comunque era tra tutti questi Centocelle davvero era l'isola felice di Mirella perché ripeto lì c'erano soltanto le sue compagne le sue compagne di classe e il fidanzatino Massimo Forti che si spesse centocelle era riconducibile poi alla scuola esatto 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 e poi c'era comunque perché io ecco tra le tante tra le tante domande che mi sono fatto è anche quella se gli inquirenti ma dagli atti non emerge avessero mai guardato un po' chi frequentava il bar della famiglia il bar dei genitori a Via Volturno perché qualche malintenzionato potrebbe aver messo gli occhi su Mirella proprio conoscendola conoscendola vedendola lì nel bar perché comunque lei era inevitabile che ci passasse ecco quindi poi la vicenda è stata ovviamente penalizzata dall'accostamento con Emanuele Orlandi figlia figlio di un depistaggio perché questo accostamento venne fuori con le famigerate lettere a firma turquesce dell'agosto del 1983 che si è scoperto poi il turquesce essere una sigla impostata poi tra l'altro guerra del depistaggio si comprese benissimo perché il nome di Mirella comparve nelle prime due lettere poi sparì e poi ritornò alla fine voglio dire se sei una sigla se sei un'organizzazione terroristica o comunque un'organizzazione criminale seria le tue richieste le porti avanti finché o non arrivi a ottenere quello che hai chiesto oppure se non lo ottieni sopprimi l'ostaggio e fine fine dei giochi in quel caso non avvenne nell'una e nell'altra e questo accostamento poi si è rivelato dannoso si è rivelato dannoso si è rivelato dannoso anche perché poi era inquadrato nella prospettiva del ricatto politico internazionale si affermava che Mirella Gregori era stata rapita per ricattare lo Stato italiano nessuno aveva mai rivendicato la sua sparizione nei primi tre mesi e addirittura chiesero fescero pressione questi questi depistatori perché Pertini presidente della Repubblica di allora Sandro Pertini leggesse un appello in favore della liberazione di queste ragazze tra le quali anche Mirella appello che non sortì alcun effetto addirittura questo telefonista che poi anche nella vicenda di Mirella Gregori entrò il famoso americano del caso Orlandi questo americano alla fine di ottobre dell'83 promise che avrebbe restituito il corpo invece il corpo non è mai stato restituito finché poi si arrivò al 1997 con la giudice Adele Rando che nella sentenza di archiviazione mise nero su bianco che i due casi l'accostamento tra i due casi era di fatto arbitrario e strumentale cioè non c'era alcun punto di conto la sentenza Rando è di rimente su questo cioè la sentenza il fascicolo d'archiviazione il fascicolo d'archiviazione e io ho un altro poi rammarico che poi è lo stesso avuto per il documento del SISD è che anche i miei articoli di cui abbiamo parlato stasera la mia inchiesta anche quella uscita nel 2018 passata passata proprio è proprio scivolata nel dimenticatoio per carità il pubblico l'ha apprezzata e questo mi ha ovviamente reso molto molto contento molto felice però poi su un piano pratico su un piano operativo così proprio lettera morta ecco però diciamo che potrebbe cambiare tutto io me lo auguro ma me lo auguro ma non perché per me cioè perché semmai è un riconoscimento al mio lavoro me lo auguro per la sorte di questa ragazza tra l'altro fra i contatti fra i contatti c'è un'altra singolarità che nel 1983 compare per la prima volta il nome il nome di una un nome femminile che era residente a via del Macau cioè la via dove Mirella fu vista con il giovane uomo biondo nel mese di aprile del 1983 vale a dire un mese prima della scomparsa e questa era una era uno dei 56 contatti esatto sì ah sì dei 44 contatti femminili dei 44 contatti femminili per carità cioè non voglio dire che per forza di cose i due fatti sono associati però noi non diciamo per forza di cose perché questo non è noi facciamo emergere poi è chi di dovere che deve che deve che deve che deve scavare ma perché hai i mezzi per farlo perché hai i mezzi per farlo perché lo può fare velocemente soprattutto magari l'unica raccomandazione cerchiamo di non far passare altri 40 anni ecco insomma no magari prima di andare a fare l'accertamento perché poi magari queste persone oggettivamente non ci saranno più no ma proprio per un limite naturale della vita umana ecco quindi speriamo 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 che ci sia la possibilità di riaprire ma soprattutto speriamo che lo diceva guarda io spesso non concordo con molte cose che che dice purgatori a proposito di Emanuele Orlandi ma non è che non concordo è proprio una narrazione che non mi piace però su una cosa condivido ecco però su alcune cose sono d'accordo con lui una delle cose sulle quali sono d'accordo con lui è che la commissione che tu sai che i nostri colleghi si sono divisi su questo no proprio in modo netto che la commissione è forse in questo momento in un momento nel quale su questi due casi noi speriamo che emerga davvero la verità processuale ma è molto più facile che emerga una verità storica ecco la commissione parlamentare la bicamerale può svolgere un ruolo fondamentale non di controllo del lavoro della magistratura assolutamente no ma la commissione bicamerale può fare cose che la magistratura quella del Vaticano quella dello Stato italiano magari non può più fare mi permetto di sentire con queste valutazioni di purgatori nel senso che la commissione ha i suoi strumenti e questo assolutamente innegabile e può dare il suo contributo le persone che non saranno ascoltate no io dissento nell'inquadrarla come l'ultima ecco l'extrema razio ecco l'ultima chiamata prima dell'oblio assolutamente no ma perché io ho una nutro grandissima stima e grandissima fiducia nella nella magistratura e perché credo che abbiano gli strumenti per arrivare a molte delle risposte alle domande che noi abbiamo lo spero lo spero molto però appunto l'ho detto il problema non è questo il problema è che oggi sarà difficile arrivare a una verità processuale cioè portare qualcuno a giudizio perché poi è quello il dato tu puoi fare l'inchiesta poi c'è poco da fare hai fatto un'inchiesta splendida ma non hai gli elementi per chiedere il rinvio al giudizio oppure lo chiedi e ti dicono no guarda è un processo assolutamente indiziario non si può fare a mio avviso la commissione siccome non ha questa preoccupazione cioè la commissione al massimo può trasferire qualcosa che emerge alla magistratura ma il fine della commissione è quello di tentare di raccontare questa storia di raccontarla storicamente no di darle un senso di capire davvero che cosa può essere accaduto non ha la preoccupazione di portare a giudizio qualcuno perché non è il suo mestiere no no assolutamente però c'è un però che secondo me ha la P maiuscola e mi riferisco alla vicenda di Mirella Gregori che è stata di nuovo associata a quella di Emanuele Orlandi beh ma guarda su questo e se la commissione procederà di nuovo lungo questo binario è binario morto cioè se pensano di arrivare a una verità condivisa una verità che faccia ad anello di congiunzione tra queste due scomparse si parte male e si finisce peggio però se tu hai detto diciamo il dibattito che c'è stato nella commissione affari costituzionali della Camera credo no? sì beh insomma si era arrivati a alla conclusione che alla fine il caso Orlandi aveva delle sue peculiarità cioè questo è agli atti è riconosciuto è scritto è scritto nel dibattito della commissione in quell'occasione tu sai benissimo che Roberto Morassut è intervenuto e appellandosi proprio al legame storico che c'è tra i due casi ha chiesto che non venisse stralciato cioè che non venisse eliminato dalla bicamerale pur essendo pur presentando caratteristiche diverse che non venisse eliminato proprio perché ha un legame che oramai è diventato storico ecco e la cosa tra l'altro è stata approvata e poi in plenaria è andata in votazione la bicamerale Orlandi Gregori e adesso al senato andrà in votazione la bicamerale Orlandi Gregori e questo secondo me è un fatto fondamentale importantissimo perché forse c'è la possibilità di raccontare finalmente che cosa è accaduto dal punto di vista storico certo il caso Orlandi ha una complessità pazzesca fare luce su quello che è accaduto non sarà semplicissimo ma comunque lo può fare la commissione lo può fare la magistratura si sta muovendo in un modo diverso per fortuna ecco quando io dicevo fare chiarezza intendiamo proprio questo fare chiarezza ad esempio su Turchesci fare chiarezza su quello strambo personaggio che risponde al nome di Marco Fassoni Accetti fare chiarezza su tutte queste cose cioè decidere finalmente che ci troviamo di fronte a una persona disturbata per quello che riguarda il citato Accetti ma le valutazioni guardi io appunto su queste valutazioni qua sono comunque valutazioni no 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 sono valutazioni mie personali sì no no ma dico allora l'inattendibilità di Marco Fassoni Accetti è stata decretata dalla magistratura la fantasiosità del Turches idem non siamo riusciti a capire chi produsse quelle lettere però ecco se una commissione parlamentare deve essere deve porsi come obiettivo quello di capire chi c'era dietro un depistaggio io mi sembra mi sembra un lavoro un lavoro un po' troppo arzigogolato e anche di difficile riuscita per non dire quasi impossibile perché o chi scrisse quelle lettere si presente e dice sono stato io siamo stati noi abbiamo fatto questo questo e quest'altro perché ci è stato detto da questo questo e quest'altro altrimenti come fai ad arrivare a un obiettivo di questa natura sì non sarà semplice certo non sarà semplice però se una commissione invece sceglie di convocare delle persone che avevano contatti con le vittime e che non sono mai state ascoltate dagli inquirenti allora lì la prospettiva può cambiare però stiamo parlando di due piani molto differenti stiamo parlando di un piano reale concreto un piano che da un punto di vista di visibilità mediatica non ne garantisce molta e dall'altra parte invece abbiamo proprio l'apoteosi della suggestione perché soltanto l'idea di andare alla ricerca di chi ha mosso i fili ha fatto da gran burattinaio fa la fortuna di tutta una serie di trasmissioni televisive che campano che campano lo sappiamo sull'elargizione gratuita e smodata di suggestioni al pubblico ecco tra l'altro io quando ho letto i pareri di alcune delle personalità eminenti che sono state ascoltate al senato ecco tra le righe di alcune dichiarazioni relative al timore che una commissione potesse fungere da palcoscenico per soggetti che a un certo punto danno così sfogo alle loro elucubrazioni e conquistano la scena io ecco ho fatto anche ho fatto anche questo tipo questo tipo di considerazioni immagina cosa possono fare alcuni persone ecco io non credo che loro si riferissero soltanto al tipo strambo di turno che una mattina si ripeto si alza si sveglia e dice sono stato io ora vi porto le prove poi in mano non ha niente io non credo si riferissero soltanto soltanto a loro però questa è una mia convinzione comunque che si poggia su quello su quello che vedo e su certe dinamiche che ho imparato a conoscere nel corso di questi anni di come lavorano certe figure che stanno nel mondo dell'informazione su questo condivido perfettamente tu sai come la penso quindi la penso esattamente come te cioè è chiaro che poi alla fine vediamo che cosa accadrà no però insomma io penso seriamente che però una commissione bicamerale può fare quello che magari la magistratura per ragioni no di scelte investigative non vuole fare non può fare non può più fare ecco io penso che questa cosa può fare invece la differenza perché anche perché se la commissione facesse quello che fa la magistratura sarebbe anche superflua esatto assolutamente quindi può tentare appunto quello che dicevo prima stando attenti a tutto quello che che tu hai appena sottolineato cioè che poi il rischio che qualche personaggio vada lì e venga audito no e che trasformi l'audizione in uno spettacolo beh insomma ce n'è eh anche perché le audizioni di solito sono pubbliche alcune possono essere secretate ma alcune possono essere secretate ma la maggior parte sono pubbliche vengono trasmesse diciamo nei canali satellitari quindi si possono ascoltare quindi poi abbiamo abbiamo memoria no di di audizioni anche recenti bene allora io penso che noi abbiamo fatto un po' di chiarezza su questo questa sera non ho proprio dubbio abbiamo raccontato gli elementi credo fondamentali di questa vicenda e soprattutto abbiamo tirato fuori quelli che potrebbero essere gli spunti investigativi incredibili Debora sì abbiamo io non lo so sì sa va san dio domande ce ne sono ce ne sono molte quindi è tutto tuo ecco ma qualcuna anche per te eh Igor non è che tu te la scampi così facilmente però sì sì la maggioranza sono ovviamente sì per Tommaso per Tommaso Nelli e una domanda proprio riguarda l'argomento che avete toccato per ultimo quello della commissione parlamentare ci chiede Mimma il caso di Mirella non venrà penalizzato ancora una volta con questa commissione parlamentare visto che è abbinato sarebbe abbinato al caso di Emanuele Aulanti vado io vado io sì ah ok e beh un po' l'abbiamo detto fino a pochi minuti fa cioè ho detto fino a pochi minuti fa e dal mio punto di vista il rischio c'è tutto dipende dall'impostazione con la quale vorrà procedere la commissione esatto è un po' come per un'indagine ed è un po' come per l'indagine su Mirella l'inquadratura l'impostazione l'approccio fa la differenza se la vicenda di Mirella fosse stata analizzata come la vicenda di una ragazza scomparsa un adolescente se si fosse cercato di capire fin da subito quale poteva essere dove poteva annidarsi il predatore sessuale che aveva messo gli occhi su questa ragazza l'indagine probabilmente avrebbe preso avrebbe sicuramente preso un'altra strada e avrebbe dato sicuramente altri risultati e di gran lunga migliori rispetto a quelli prodotti seguendo altre piste frutto di a loro volta di figlie di un approccio sbagliato quindi se questa commissione su Mirella Gregori vorrà occuparsene andando a chiamare persone che appartenevano ai suoi mondi cercando di illuminare questi mondi cercando di capire una volta per tutte chi erano i frequentatori di questi ambienti bene sì se chiamerà Sonia De Vito per accertare molte delle sue dichiarazioni per esempio come quelle del documento del SISDE potrà arrivare verso qualche meta interessante se invece si muoverà di nuovo per Mirella all'ombra di Emanuela Orlandi ripercorrendo la pista del terrorismo politico internazionale la pista della banda della Magliana Mirella Gregori sarà condannata a rimanere per sempre in satellite ombra del pianeta di Emanuela Orlandi però noi non lo sappiamo e speriamo che invece accada quello che tu auspichi me lo auguro no no certo Alessandro ci chiede ci dice un vostro collega non dice chi sostiene che l'uomo dell'Avon sarebbe un chiaro riferimento a una certa fondazione nova ne avete sentito parlare di questa fondazione nova è mai entrata in balla ho presente chi sia il collega e ho presente anche tutta la storia però l'uomo dell'Avon è relativo alla vicenda di Monella Orlandi non a quella di Mirella Gregori ok perfetto e per cui abbiamo tolto un po' di confusione ma c'è da dire che dai commenti che ho letto stasera sulla nostra chat è vero che il pubblico può confondere elementi del caso Orlandi elementi del caso di Mirella e credo che questo sia il prodotto appunto della fusione artificiale che è stata fatta di questi due casi insomma si parla lo sappiamo quanti articoli sono stati scritti dove si parla solo della Orlandi poi vai a leggere si parla solo della Orlandi però è citata anche la Gregori lasciando intendere magari con qualche frase che forse c'è qualche collegamento forse c'è qualche collegamento ecco che insomma francamente diciamo pure è uscito fuori di tutto cioè io oramai sono anni che vado leggendo libri sul caso Orlandi devo dire che non perché è qui ma gliel'ho detto privatamente l'ho detto pubblicamente quando lui non c'era quindi io finora solo uno ne ho letto che diciamo si basa sulle carte che fa un'analisi si critica delle carte che cerca di trovare quali sono gli elementi che finora non sono stati analizzati o che sono stati analizzati male e insomma è il libro di Tommaso c'è poco da fare poi non nascondo che ci sono altri colleghi che hanno anche una ottima conoscenza del caso uno in particolare che è Pino Nicotri che conosce benissimo il caso credo lui l'ha scritto non so quante volte nell'ultimo libro che ha pubblicato che tu e lui siete gli unici che hanno letto tutte le carte io penso che sia vero quindi ho un grande rispetto di quello che dice io penso francamente ero potendo dire io penso che fino ad ora l'unica persona che è riuscita a tirare fuori elementi a mio avviso interessanti è Tommaso dopodiché non è che dobbiamo stare qui a incensarci no perché poi voglio dire anche Nicotri ha tirato fuori molti elementi interessanti a me personalmente convincono le cose che scrive Tommaso quindi questa è la mia personalissima opinione grazie grazie no perché voglio dire un riconoscimento no no ma ci tengo a dirlo perché è importante poi ho un grande rispetto di Nicotri e di quello che dice per cui penso che valga la pena di discuterci di ragionarci quindi con altre con altre persone no c'è gente che parla del del caso Orlandi e non sa nemmeno di che cosa sta parlando cioè per non parlare del fatto di Mirella c'è gente che dice proprio delle bagianate pazzesche ad esempio non voglio citare nessuno ma ci sono persone che veramente non lo so insomma sono interessate solamente a se stesse a mettersi in mostra non gliene frega un accidente del dolore delle famiglie del del fatto che creano confusione l'unica cosa che fanno è quella di prendere dei pezzetti delle delle robe assurde di trasformarle mostruosità e poi di lasciarle lì quello che a me preoccupa è che tutta questa roba resta dentro la rete e che chiunque può leggerla e farsi un'idea totalmente errata di come stanno le cose perché si dà per scontato si prendono delle congetture e si trasformano in verità addirittura si prendono delle falsità totali perché va detto anche questo e vengono ripetute caparbiamente continuamente addirittura facendo nomi di persone che non c'entrano assolutamente nulla né con questa né con nessun'altra storia che non ci hanno mai pensato ecco questo secondo me è un atteggiamento non solo non professionale ma è un atteggiamento che io non esito a definire criminale perché manipolare le notizie le informazioni è a mio avviso criminale una cosa voglio dirti Tommaso sei anche la prima persona che accena un elemento che a cui avevo pensato ma che non avevo visto nessuno esplorare cioè il tragitto da e per la scuola perché qualunque ragazza che vada a scuola a piedi o per un tratto a piedi tutti i giorni può incontrare persone che la prendono di mira anche solo ragazzi o che che vanno in scuole vicine o nella stessa scuola però quando fai questo tragitto tutti i giorni dai per la scuola qualcuno incroci ecco e io mi sono sempre chiesta appunto visto che parlavamo anche di un biondo che si sarebbe avvicinato in questo tragitto da o per la scuola ecco questa è la prima volta a Tommaso che ne sento parlare da qualcuno che ha studiato il caso ecco lo voglio lo voglio dire allora poi abbiamo completo un attimo il tuo ragionamento sottolineando anche il contesto socio-geografico della zona perché comunque siamo nei pressi della stazione Termini e la zona della stazione Termini è una zona tutt'oggi estremamente sensibile da un punto di vista di sicurezza ecco perché non ci gravitano non ci gravitano di certo comunità di padri francescani ecco diciamo che è che è un ambiente molto particolare oggi 2023 non oso pensare all'epoca nel 1983 ecco dove non dimentichiamo poi ti do la parola Deborah scusa ma un'altra considerazione da fare e all'epoca vivevamo in una società dove la tecnologia non esisteva quindi se oggi gli adescatori i maniaci i predatori ricorrono principalmente al web all'epoca questo tipo di soggetti abbordava le giovani ragazze o le metteva nel mirino per la strada perché era l'unico 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 luogo per per attuare i loro i loro diabolici disegni quello che è successo a Mirella di essere pedinata all'uscita della scuola di essere eseguita all'uscita della scuola ma io nell'inchiesta su Emanuele Orlandi parlando con una sua compagna di classe lei mi raccontò che lei giocava a tennis faceva tennis spesso quando aspettava che venissero i genitori a riprenderla e che ne so si avvicinava la macchina il macchinone di lusso guidato da individui di mezza età e più tra l'altro anche dall'aspetto esterico più che discutibile che cercavano di abbordarla di approcciarla quindi ecco era un mondo che presentava molte molte insidie e una ragazza di 15 anni poi ha anche meno strumenti per potersi difendere perché a 15 anni la vita non la conosci certo certo infatti una domanda da parte della nostra Roberta De Angelis che voglio ricordare agli ascoltatori è praticamente una persona importantissima nella redazione della notte del mistero non compare mai in voce o in video per una sua scelta ci teniamo a dirlo per una sua scelta che rispettiamo ma è veramente fondamentale per il lavoro che si svolge e per preparare le puntate dietro le quinte Roberta chiede perché Mirella sente l'esigenza di passare ben due volte da Sonia potrebbe aver incontrato qualcuno nel tragitto scuola-casa potrebbe essere passata di nuovo al bar per aggiornare la sua amica guarda allora Sonia e questa è un'informazione che ho trovato negli atti Sonia ha detto che quella visita di Mirella quella visita lampo di Mirella prima di salire a casa non era la prima volta che avveniva perché succedeva spesso che Mirella si fermava magari le raccontava quello che avevano fatto a scuola magari le raccontava di quello che le aveva fatto la corte ecco quindi non è stato un episodio eccezionale per quella giornata ma una situazione non voglio dire consueta ma ricorrente quello sì e poi fu un incontro proprio di pochi minuti quindi ecco poi per carità ovviamente noi conosciamo una parte cioè tutta la storia non la conosciamo quindi per il calco delle probabilità non possiamo escludere assolutamente assolutamente niente però ecco per le informazioni io mi baso sulle informazioni in nostro possesso quegli incontri erano ricorrenti tra di loro ecco e sacks 63 ci chiede ma siamo sicuri che la mamma di Mirella davvero non ha riconosciuto Raul Bonarelli sì 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 fu predisposto il confronto e la mamma non riconobbe Bonarelli disse che si era sbagliata disse che non era lui l'ignoto signore degli aperitivi non solo però non ci si fermò lì la giudice le mostrò il filmato della visita di Poitivo alla parrocchia chiedendole se nelle figure nelle persone inquadrate riconoscesse quest'uomo e lei purtroppo in nessuno dei volti ripresi riconobbe questo individuo questo ignoto signore degli aperitivi questo individuo che si intratteneva al bar con la figlia e con Sonia sul quale altre due informazioni la prima è che Sonia ha sempre negato anche o meglio ha negato nel 2011 quando le fu chiesto dai magistrati ha negato che lei e Mirella nel bar parlassero con qualcuno di più grande e che corrispondesse alla descrizione fatta dalla mamma l'altra che Bonarelli poi ha rappresentato l'unico anello di congiunzione concreta tra l'unico possibile anello di congiunzione concreta tra il caso Orlandi e il caso Gregori perché prima di quell'audizione Bonarelli ricevette la famosa telefonata da quel suo superiore che gli disse che sul caso Orlandi lui non doveva dire nulla che le notizie che il Vaticano aveva erano arrivate tutte tutte da fuori ecco Patrizia ci chiede parlando lei si riferisce a questo verbale del SISD questo questo report diciamo sulla conversazione che ha avuto luogo nel bar nel bar dei genitori di Sonia ecco chi fosse l'uomo di cui si parlava in questa conversazione lo sapeva anche l'amica con cui Sonia si era confidata questa fonte dei servizi che ha assistito al dialogo non potrebbe essere sentito per verificare se sia ancora in grado di dare indicazioni sulla ragazza con cui Sonia si confidò bella domanda bella domanda e saggio osservazione da parte di questa utente allora nel documento si parla no si riporta che Mirella Sonia scusate Sonia ebbe questo dialogo con una coetanea di circa 18-20 anni che lavorava come commessa nella zona quindi un altro un altro motivo per il quale questo documento deve essere approfondito è capire chi fosse questa persona e appunto come ha osservato questa utente se questo individuo era conosciuto da anche da questa da questa seconda ragazza poi la fonte del SISDE io non solo mi chiedo se la fonte del SISDE a oggi ricordi altre informazioni ma soprattutto se ci siano altri appunti da parte del servizio su questo su questa notizia perché i documenti trasmessi dal servizio ai magistrati non furono tutto quello che loro avevano su Emanuella Orlandi e Mirella Gregori alcuni nella premessa nella premessa perché questo incartamento fu anticipato da una premessa scritta nella quale il servizio riferiva che cosa aveva inviato in procura specificò per esempio che non c'erano nei loro archivi nemmeno mezzo documento che collegasse caso Orlandi e caso no caso Orlandi quindi vabbè nemmeno il caso Gregori immagino comunque nessun elemento che collegava la vicenda a la banda della Magliana e poi specificarono che non avevano trasmesso dei documenti a firma i famosi atti relativi al Turkish poi come ho avuto modo di appurare non esiste come documentazione ufficiale soltanto quella che viene trasmessa in procura mi è stato detto da persone che lavorano nelle forze di polizia e comunque hanno la polizia le questure hanno i loro archivi e nei loro archivi ci confluiscono anche tutta una serie di annotazioni raccolte durante una fase di indagine che non necessariamente vengono trasmesse all'attenzione del magistrato io l'ho sperimentato in prima persona perché per il caso per il caso Orlandi dai documenti ricavai la notizia che la questura di Roma nei suoi archivi ha una cartellina con tutte le indagini svolte sulla famosa BMW dell'uomo Avon della vicenda Orlandi vista a corso di nascimento io chiesi la possibilità di visionare questa documentazione mi fu negata quindi come quella ce ne può essere ce ne possono essere tante tante altre di di raccolte di atti che sono rimasti sono rimasti negli archivi della questura per cui ci potrebbe essere anche del materiale che amplia questo appunto questo appunto del SISDE per il quale voglio un attimo circoscrivere le ragioni che portarono il servizio a occuparsi della vicenda di Mirella Gregori dal mese di agosto i due casi procedevano appaiati a seguito come abbiamo detto delle lettere turquesce che poi furono un depistaggio finirono nelle mani dello stesso magistrato che all'epoca era Domenico Sica addirittura sia anche la famiglia Gregori fu tutelata dallo stesso avvocato degli Orlandi l'avvocato Egidio e si stava percorrendo in quel periodo la pista del terrorismo internazionale pista del terrorismo internazionale che aveva attivato i nostri servizi nel momento in cui si pensava che entrambe le ragazze fossero state rapite da questa presunta organizzazione terroristica e le possibilità poi cioè le supposizioni erano che fosse un'organizzazione straniera a maggior ragione ci fu l'interesse dei nostri servizi quindi una fonte fu spedita nel bar proprio per vedere se potevano essere raccolte delle informazioni interessanti e le informazioni furono raccolte il problema è che furono furono poi raccolte e dimenticate trascurate grazie Tommaso tra l'altro quella è una zona di ambasciate quella della via Nomentana Porta Pia via Alessandria e così via è una zona che pull le ambasciate a me non stupisce affatto che una persona dei servizi segreti si trovi in un bar della zona e magari in cerca di qualcosa e per serendipiti ne ascolti un'altra e riporti su un'altra cosa ne pensi? Sono d'accordo sono d'accordo senza contare che magari quella persona in quel bar questa fonte dei servizi in quel bar non è che ci era andato appositamente quel giorno e ha avuto il colpo di fortuna colpo di fortuna comunque la combinazione magari lo frequentava ancora da prima che gli venisse detto dal servizio perché magari era un cliente abituale del locale certo quindi cioè perché si è favoleggiato molto bisogna chiederci perché c'era 1007 dentro quel bar appunto se mettiamo insieme come sempre bisogna contestualizzare bisogna raccogliere tutte quelle informazioni relative alla vicenda relative al luogo dove è avvenuta come quelle che tu Deborah hai esternato e poi si riesce anche a capire le ragioni le ragioni di un'azione piuttosto piuttosto che di un'altra cioè già queste vicende sono complesse e hanno il mistero con la M maiuscola di essere ancora prigioniere delle nebbie dopo 40 anni che sono che sono tanti non aggiungiamoci nebbie costruite nebbie artificiali costruite costruite solo per così proprio quasi la l'astinenza l'astinenza da 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 congettura l'astinenza da complotto che ci porta a vederli anche dove dove non esistono infatti poi come giustamente hai precisato i servizi segreti quelli civili si occupano delle questioni anche politiche economiche interne e non di cronaca nera di terrorismo anche eccetera quelli esterni si occupano invece di questioni internazionali di informazioni reperite all'estero per cui il coinvolgimento di un servizio segreto in un caso di cronaca nera interna deve per forza essere perché c'è un legame come hai detto giustamente tu con il terrorismo internazionale o questioni di questo genere e non non per la cronaca nera in sé ecco non c'entrano non c'entrano nulla anche se sono in Italia un pochettino il perfetto caccio sui maccheroni che viene inserito quando un caso di un caso non si capisce più niente allora vengono inseriti diciamo i servizi segreti è sempre è sempre colpa di servizi è infatti il caccio sui maccheroni proprio ecco una domanda che farà contentissimo Igor da parte di Mary Mary Igor ascolta bene l'uomo biondo non potrebbe l'uomo biondo non potrebbe essere Marco Accetti che pare sia biondo che fa il fotografo per sua stessa ammissione lui dice di aver avuto un ruolo nella sparizione di Mirella Gregori ecco che dite Marco Accetti il biondo di Portapia ma non la domanda che insomma ognuno è libero di fare le domande che vuole ma dal mio punto di vista Accetti ha una grande capacità che è quella di studiare bene i casi che poi si attribuisce e di trasformarli appunto si è passati sappiamo bene no dalla lotta fratricida tra le due componenti che poi insomma in realtà c'erano davvero interne in realtà ce n'erano molte di più interne alla curia vaticana alla lotta fratricida dentro al SISDE eccetera 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 ma di che stiamo a parlare cioè a Roma si dice così no ma di che stiamo a parlare ma che vuole cioè che vuole essere una professione che vuole io non lo so che vuole cioè vuole apparire sui sul sui talk show della sera o della mattina non lo so portasse qualche prova ecco magari un po' più un po' più di sostanza se c'è più sostanza magari ce la fa ad apparire nei talk show cioè comunque c'è riuscito bisogna riconoscere il merito di aver dato sole anche a professionisti seri certo e Lovely Smile ci chiede gli inquirenti sentirono gli invitati alla festa presso il bar dei Gregori sarebbe stato utile per confermare le impressioni della mamma di Mirella e magari aggiungere qualche dettaglio e Tommaso ti risulta questo? Allora ne furono sentiti alcuni ma questi alcuni erano i ragazzi le ragazze insomma gli amici e le amiche di Mirella che erano presenti all'evento infatti alcuni di loro confermarono che c'era stato questo screzio tra lei e il fidanzatino Massimo o meglio appunto che lui se l'era era andato via prima era andato via in anticipo perché si era si era così infastidito dalla poca considerazione ricevuta tra l'altro ecco anche qui ora io io mi appellerei a una maggiore sensibilità psicologica da parte degli investigatori perché è calarsi un attimo nella mente di chi hai davanti cioè dei ragazzi di 15-16 anni se perché letta così no dici me ne vado perché la mia ragazza non mi considera lì per lì non gli dai peso in un primo momento non gli attribuisci importanza ma ecco con un po' di sensibilità un po' di psicologia adolescenziale perché Mirella quel giorno in quel contesto non l'ha considerato che cos'è voglio dire Mirella era innamorata di questo ragazzo perché lo scrive sul diario a più riprese è un mese che stocco un massimo e altri apprezzamenti quindi perché in un contesto poi gioviale è una festa è un rinfresco poi è il locale dei tuoi genitori è anche il tuo locale no ok ci puoi avere ci puoi avere lo screzzo perché magari discuti perché che ne so il tuo ragazzo fa un'uscita che non doveva fare però lui dice di essersene andato perché si sentiva poco considerato certo perché a che cosa è dovuta questa questa poca a che cosa fu dovuta questa poca considerazione questo non lo chiesero a lui e non lo chiesero nemmeno agli altri a quegli altri ragazzi sentiti e che erano presenti alla festa però poi gli adulti presenti alla festa no quelli non sono mai stati ma non si sono nemmeno preoccupati di capire chi ci fosse certo ma io sono già stupita anche del fatto che da quanto ho capito la mamma di Mirella sia stata sentita venti giorni dopo la sparizione venti giorni tre settimane per capire dalla mamma di una persona di una ragazzina scomparsa che cosa sia successo venti giorni sono tanti eh tanti tanti e tra l'altro venti giorni eh nei quali poi a parte ascoltare Alessandro De Luca poi eh non ascoltarono nessuno non fu chiamata nessun'altra persona per carità c'è il rapporto della polizia eh che riferisce che erano stati interpellate alcune compagne della scuola superiore e alcune compagne delle medie però eh si presume siano state delle eh dei dei colloqui orali che tutt'al più possono essere finite in quelle annotazioni di cui parlavamo prima che non sono confluiti nel nel fascicolo perché poi le prime amiche di Mirella eh vengono sentite eh con 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 l'estate con l'inizio dell'estate siamo già a luglio siamo Musa di Agosto ci chiede sicuramente c'è un nesso cioè secondo lei c'è un nesso tra questi ragazzi biondi e la frase che disse Mirella alla madre mamma non ti preoccupare ti aiuto io a trovare i soldi per comprare una casa più grande sono state fatte delle indagini in questo senso allora non sono state non sono state fatte delle indagini né in un senso né in un altro allora io appunto poi non voglio forzare la lettura eh dei fatti l'interpretazione che però chiarisci bene sì esatto però credo sia doveroso fare chiarezza su questa frase perché anche questa frase si inserisce si inserisce nell'apologia delle congetture e delle pesanti insinuazioni per non parlare di diffamazione siamo al confine con la diffamazione nei confronti della povera Mirella perché perché la mamma appunto al giudice Lario Martella quindi siamo 85 86 raccontò che siccome in casa ebbero dei problemi di natura economica tant'è vero che Mirella lo riportò anche sul suo diario di scuola che scrisse te lo ricordi scrisse difficoltà economiche che scrisse insomma da una quindicenne sì difficoltà economiche a ogni modo la mamma raccontò al giudice Ilario Martella che appunto erano in un periodo lei aveva fatto presente che avrebbero dovuto sostenere delle spese a casa e quindi insomma sarebbe stato un periodo dove come si dice in gergo si sarebbe dovuta tirare un po' di più la cinghia no? un periodo di austerity diremmo oggi al che la figlia Mirella lei le ritornò in mente questa frase che le disse Mirella Mirella così disse ah non ti preoccupare mamma li trovo io i soldi però da quello che si deduce dalla deposizione della mamma tutto finì lì cioè lei rimase tra il sorpreso e così anche un po' il divertito non le dette tanta importanza a quella a quella quella frase anche perché se uno un attimo la contestualizza in un ambiente familiare poi tra l'altro era un ambiente familiare quello pervaso animato da molta concordia cioè comunque era una famiglia unita una famiglia dove si andava d'accordo Mirella era una ragazza dirigente a scuola aveva anche un ottimo rendimento l'anno prima fu promossa con la media tra il 7 e l'8 quindi cioè stiamo parlando comunque anche qui di un contesto familiare positivo quindi non li dai tante pensi sia una frase così anche una una butade ecco sì il problema qual è che alla luce del dramma c'è chi ha costruito davvero una un grattacielo di allusione di insinuazioni su Mirella sostenendo che dietro quella frase si nascondesse una sua vita da squillo fondamentalmente perché poi è quello che sostengono e che quindi lei poi sia finita in un giro di prostituzione minorile o mercato di film a luci rose comunque ecco una una caienna di questa natura e e quindi che 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 la ragione della della sua scomparsa sia dovuta si ritrovi in quella frase in base a quali elementi oggettivi si può andare ad affermare una a rilasciare una dichiarazione del genere sulla natura sull'indole sulla moralità di di Mirella non puoi non puoi anche giornalisticamente parlando non puoi non puoi perché non hai niente che provi che quella frase volesse dire che lei era era una ragazza facile e ipotizzarlo significa insinuare non è un'ipotesi è un'insinuazione perché te stai gettando del discredito su una persona alludendo a una sua possibile forma comportamentale che non esiste perché non hai le prove per dimostrarla poi che il biondo sia un individuo che possa avere a che fare qualcosa con questa storia insomma è più quella sì che è più che è più di un'ipotesi ripensando a tutto a tutto quello che abbiamo che abbiamo detto tra l'altro chi citofonò a casa di Mirella non solo conosceva bene come abbiamo detto prima le sue debolezze ma conosceva bene anche altre dinamiche che gli hanno permesso di mantenere l'anonimato perché perché questa citofonata arriva 14 e 45 14 e 50 quando il portone dell'edificio era chiuso perché il portiere tra le 13 e le 15 era in pausa quindi quella persona si è anche sincerata che non ci fossero dei testimoni poi tra l'altro è una persona stando a un verbale di Sonia De Vito figlio di quello che Mirella le raccontò nella toilette questo questa persona le avrebbe proposto innanzitutto prima di Porta Pia invece che Porta Pia di vedersi a Piazza della Croce Rosta che da dove abitava Mirella dista 600 metri se si passa da Via dei Villini e quindi anche questo fa pensare ancora di più che questa persona fosse una persona con una macchina perché anche perché altrimenti o era una persona che abitava lì nella zona e quindi ha indotto Mirella a seguirlo a casa sua e poi è successo il patatrack altrimenti viene da pensare che fosse una persona con la macchina che con una scusa qualsiasi come è riuscito a far scendere Mirella da casa poi l'ha anche convinta a salire in macchina con lui o con loro perché magari potevano anche essere più di uno e poi è successo quello che è successo certo Deborah direi che ci sono altre domande e chiudiamo sì 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 no ma infatti guarda sì 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 certo certo no no ma saremo veloci ci chiedono se sul citofono dei Casa Gregori c'era scritto il cognome oppure se ci fosse scritto un numero tu lo sai c'è qualche foto qualche testimonianza di questo citofono senti allora c'è un video questo citofono fu ripreso da un video da un servizio televisivo realizzato dalla RAI per la trasmissione telefono giallo condotta da Corrado Augas e dove costruirono gli ultimi attimi di Mirella e viene ripreso anche il citofono che questa trasmissione andò in onda il 26 ottobre del 1987 la famiglia abitava ancora a Viano Mentana e si vede proprio inquadrato il cognome Gregori sulla targhetta ecco ok per cui si vedeva ecco non bisognava essere a conoscenza di codici per pochi intimi o cose di questo tipo ma anche perché non c'erano i codici elettronici al tempo cioè c'erano i citofoni col pulsante che era anche magari un po' un po' difettoso certo certo magari su quel pulsante ci poteva essere scritto anche un numero delle iniziali però ok grazie tu ci hai risposto ci chiedono chi sapeva di questa cotta per Alessandro il compagno delle medie oltre le pagine del suo diario c'era qualche amica del cuore che era al corrente di questa simpatia Sonia l'aveva Sonia sì Sonia sicuro Sonia sicuro perché Sonia era in classe con loro alle medie poi Sonia interruppe gli studi con la fine delle medie e iniziò a lavorare nel locale di famiglia Sonia lo sapeva e tra l'altro e loro appunto come detto prima loro passavano tantissimo tempo insieme quindi ci sta che su questo che questo Alessandro Sonia lo disse che loro comunque si scambiavano molte confidenze quindi di questo Alessandro ne avranno sicuramente riparlato proprio per due motivi era in classe con loro e era un'infatuazione era stata un'infatuazione un'infatuazione di Mirella quindi lei lo sapeva e parlandone nel bar la notizia può essere arrivata a qualcun altro questa è una delle prime ipotesi e poi se si fosse scavato più a fondo nei mondi di Mirella magari si poteva si poteva venire a sapere che questa cota la conoscevano anche anche altre amiche altri amici e Lorella ci fa una domanda particolare o meglio particolare per me non spiega perché fa questa domanda ma chiede per caso può centrare qualcosa la chiesa di Sant'Andrea della Valle ora io a Lorella ho chiesto in chat se poteva offrire maggiori dettagli su questa domanda però non ho letto una sua risposta diciamo questa chiesa di Sant'Andrea della Valle ti fa scattare qualcosa Tommaso qualche idea o anche per te è incomprensibile no non mi dice assolutamente niente ma perché la chiesa di Sant'Andrea della Valle si trova su Corso Vittorio Emanuele II tra l'altro è una bellissima è una bellissima chiesa tra l'altro si andate a pistarla perché è veramente splendida sì ed è proprio nel punto in cui Corso Vittorio Emanuele II si interseca con Corso Rinascimento e alla fine di Corso Rinascimento quindi siamo proprio in tutt'altra zona rispetto non solo a dove è scomparsa Mirella Gregori ma rispetto proprio ai suoi ai suoi ai suoi luoghi maggiormente frequentati chi si affaccia questo lo dico per chi ama il gossip la finestra dell'abitazione romana di Vittorio Sgarbi fantastico la quale si vede di Sant'Andrea della Valle questo direi che è proprio il tocco di classe per chiudere la diretta abbiamo due domande veloci Ettore ci chiede secondo te Tommaso c'è una seppur minima possibilità che i casi Gregori e Orlandi siano dei comuni allontanamenti o anche dei suicidi che spiccano tra gli altri per via della copertura mediatica oppure poi c'è un'altra domanda che vedo che sta scorrendo e si ripete e si ripete in continuazione e cioè ma il fidanzato di Mirella ha davvero detto che ha chiamato alle 14.30 a casa e gli hanno risposto che Mirella era già uscita allora riguardo l'allontanamento allora allontanamento volontario è da escludere sia per Emanuele Orlandi sia per Mirella Gregori assolutamente nessuna delle due aveva mai manifestato questa volontà entrambe avevano ottimi ottimi rapporti in famiglia quindi l'allontanamento volontario assolutamente no e non ci sono nemmeno elementi a disposizione per poter presupporre l'ipotesi del suicidio poi quella su Massimo Forti che lui chiamò alle 14.30 e Mirella adesso io ho perso un po' perché mi sono riuscito a collegarvi da poco alla chat sì e qualcuno ha fatto una domanda non so se Deborah l'ha vista comunque dice io no perché stavo facendo le domande in una intervista quindi non stiamo parlando è quello che dicevamo prima no sono le interviste un conto so i verbali non credo che stiamo parlando di un verbale però sembra ecco un'altra cosa ho sentito la testimonianza del fidanzato di Mirella questo lo scrive Emilia Galli dove dice ecco ho sentito la testimonianza del fidanzato di Mirella vuol dire che ha sentito la testimonianza in una in una trasmissione televisiva immagino dove dice di aver chiamato casa Gregoria alle 14 e 30 e che Mirella era già scesa se così fosse tutto cambia questo scrive Emilia Galli ok ok allora guarda credo che anzi credo credo che sia molto probabile che la trasmissione sia uno speciale del TG2 dedicato a entrambi i casi Orlandi Gregori che andò in onda il 17 marzo del 1988 su Rai 2 ah quindi del 88 credo credo che sia quello perché ti dico questo perché da ieri questa puntata è disponibile su YouTube me l'ha segnalata tra l'altro un caro collega che si chiama Francesco se non ricordo male ieri attraverso ma ieri sera mi è arrivato questo messaggio su Instagram ieri sera tardi e ho passato in rassegna così velocemente questa questa trasmissione e ho visto che è stato intervistato anche il fidanzato il fidanzato di Mirella Massimo Forti però devo ancora devo ancora visionarla oggi non ho avuto non ho avuto non ho avuto possibilità quindi mi riservo di prestare attenzione all'intervista che fu fatta al tempo a Massimo Forti e poi magari realizzo un breve video dove do la risposta a questa a questa perché è importante è certo anche se poi bisognerebbe confrontare quanto detto nell'intervista con quello che riferì a che misa verbale all'epoca non dimentichiamoci mai che nel 1988 erano comunque trascorsi già cinque anni cinque anni dai fatti ecco no no ma infatti te l'ho detto insomma la continuo a ripeterlo no spero di non annoiare che ci sta ascoltando però i verbali devono essere confrontati con i verbali le interviste sono tutta un'altra cosa si si possono commentare ovviamente no sto parlando del nostro lavoro no possono essere utili perché no a me torna sempre in mente Vanacore che dice a chi lo intervista no è giovane lo sto aspettando e lui stava già a monacizzo no ma che significa ma che vuol dire cioè se lo sta aspettando ed è giovane allora lasci capire che sai chi è esatto ma perché non l'hai riferito ai magistrati e invece Pietrino Vanacore ai magistrati non ha riferito nemmeno che cosa ha fatto il pomeriggio del 7 agosto perché noi allo stato dei fatti lo possiamo dedurre ma non lo sappiamo cioè lui non ce l'ha mai detto ecco quindi le interviste sono una cosa e non possono essere assolutamente confuse con poi soprattutto le interviste vengono pubblicate poi sai io voglio ascoltare la registrazione vorrei ascoltare la registrazione o la trascrizione integrale cioè una cosa assume valore quando qualcuno ti spiega ti fa un ragionamento e ti dice e ti dà delle informazioni se così è e tu hai la trascrizione o la registrazione allora quello comincia ad essere un materiale diciamo che può essere preso in considerazione allora certamente e poi ci chiedono ci chiedono se sei biondo vai se il biondo può essere la stessa persona di cui parla Max Parisi il nostro caro amico Max Parisi l'uomo della Ferrari perché Tommaso non so se lo sai ma Max Parisi ecco parla di questo uomo della Ferrari che lui associa a vari casi di delitti di scomparse di donne ragazze a Roma e allora visto che questo signore anche lui ma guarda tolgo a Tommaso poi se vuole lo può dire tranquillamente però l'imbarazzo di rispondere tu sai quanto io voglia bene a Max ma non credo nemmeno non ho mai creduto fin da quando ho letto quel libro alla tesi sostenuta da Max proprio assolutamente assolutamente infondata lui ha fatto un lavoro ha messo insieme tutta una serie di elementi non non nego che magari qualche omicidio di prostituta o di tossicodipendente abbia degli elementi che possano far pensare ad un seriale ma tutto quello che è scritto in quel libro è ovviamente la mia personalissima opinione opinione a proposito di Simonetta Cesaroni Mirella Gregori Katy Scherla è per non parlare dell'Orlandi è assolutamente privo di qualsiasi fondatezza riscontrabile io mi limito solo a un'osservazione che Mirella Gregori ed Emanuele Orlandi sono due casi di scomparsa negli altri casi Katy Scherl più gli altri casi trattati nel libro di Parisi e Lupacchini si parla di omicidi quindi già partiamo su due piani su due piani differenti due piani criminali criminosi differenti perché da una parte abbiamo la possibilità che ci sia un unico serial killer perché abbiamo dei cadaveri abbiamo delle vittime ovviamente io non conosco nei dettagli ogni singolo assassino trattato però ecco l'unica valutazione che posso fare è che Mirella Gregori ed Emanuele Orlandi non possono essere messe sotto la lente di ingrandimento del serial killer perché i loro sono casi di scomparsa soltanto nel momento in cui si dovesse arrivare a scoprire i loro cadaveri e si dovessero riscontrare delle analogie sia come modalità di uccisione sia come arma utilizzata analogie con altri delitti allora si può iniziare a pensare all'esistenza di un'unica mano bene abbiamo risposto questo biondo questi biondi insomma hanno scatenato diverse suggestioni ed era normale che questo accadesse ringraziamo i nostri ascoltatori per le loro domande perché appunto danno modo ai nostri ospiti di elaborare ancora più in dettaglio dei temi delle associazioni molto interessanti e ringraziamo Tommaso Nelli che io spero a questo punto torni in qualche modo a vivere a Roma almeno per un periodo per fare di nuovo il segugio nei confronti di magari di tutte quelle persone alle quali potrebbe essere chiesto qualcosa e che nessuno ha mai pensato di chiedergli ecco sì anche perché guarda mi viene in mente appunto l'inchiesta su Emanuele Orlandi attraverso la ricerca delle persone io poi ho raccolto anche delle testimonianze inedite di persone che non erano nemmeno i cui nomi non erano nemmeno agli atti testimonianze inedite importanti quindi poi il lavoro del giornalista deve essere che si occupa di queste vicende deve essere sempre un compendio tra la parte documentale e la parte la parte orale cioè quella delle testimonianze quella proprio dell'indagine sul campo dove vai alla ricerca delle persone certo certo e questo è importantissimo e